Un cordiale benvenuto a tutti e a tutte, tutti coloro che sono qui presenti e anche a coloro che non potendo essere qui di persona parteciperanno da remoto. In particolare vorrei salutare la giurata Ada Vigliani che ci segue da Torino, così come Paola Mazzarelli, anche lei da Torino, che presenterà uno dei suoi libri. Il premio Claudio Groff Tradurre letterature, tradurre mondi per una traduzione letteraria dal tedesco è giunto finalmente alla seconda edizione. Oggi conosceremo i nomi dei finalisti e avverrà la premiazione che sarà posticipata, lo devo anticipare subito perché purtroppo chi deve ricevere il premio ha avuto problemi con il treno e arriverà un pochino in ritardo. E purtroppo non ci sarà neppure il fratello di Claudio Groff, Fabrizio, lo sponsor di questa iniziativa per problemi di salute. Ma è con noi ugualmente, l'ho sentito, mi prega di farvi i suoi più calorosi saluti e di ringraziarvi. Ringraziare soprattutto la giuria e coloro che si sono spesi perché questo premio va davanti, acquisti diciamo una sua fisionomia e perché il fratello Claudio e la sua attività non vengano dimenticate. Ma soprattutto rimanga vivo e produttivo quello che Claudio ha seminato. E quindi ci assicura anche per il futuro il suo appoggio perché intende che questa attività prosegua. Io vorrei ora pregare la nostra Presidente dell'Accademia, Patrizia Salomoni, di darci il benvenuto. Grazie. Grazie Paola. Saluto anch'io e do il benvenuto innanzitutto al Presidente e ai componenti della giuria della seconda edizione del premio Claudio Groff. E un ringraziamento anche a tutte le relatrici, i relatori che prenderanno parte al secondo momento di questo pomeriggio destinato appunto a una riflessione sulle traduzioni e ad una tavola rotonda. e voglio anch'io salutare il professor Fabrizio Groff che non ha potuto essere presente ma ci dobbiamo ricordare che insieme a Paola Maria Filippi è stato l'ideatore e lo sponsor di questa manifestazione. Bene, le traduzioni o per meglio dire la traduzione, la teoria della traduzione è anche una tradizione dell'Accademia degli Agiatti. L'Accademia è nata nel 1750 come ponte tra il mondo culturale tedesco e il mondo italiano e uno dei primi atti di uno dei fondatori, Giuseppe Balleriano Vanetti, è stato proprio la composizione di un discorso sul metodo del tradurre. Un discorso che prende l'avvio da un testo di Cicerone molto noto tratto dall'Optimo Genero Oratorum in cui Cicerone, forse direi che questo testo è quasi un archetipo delle teorizzazioni sulla traduzione in quanto Cicerone che sta traducendo due orazioni dal greco, una di De Mostene e una di Eschine dice che lui innanzitutto non è un interprete ma traduce come un oratore quindi con molta attenzione posta al genere e inoltre non verbo un proverbo reddere, cioè non intende restituire parola per parola ma piuttosto verba appendere, cioè restituire il pensum, restituire il peso, cioè ricreare l'efficacia di un testo e quindi evidentemente non solo porre attenzione ai segni linguistici ma anche alle figure della retorica, anche all'ordine delle parole, anche al ritmo ordine delle parole, disposizione e ritmo che sicuramente ieri come oggi influenzano la struttura della traduzione ma possiamo aggiungere anche noi che il traduttore deve anche tradurre i silenzi del testo cioè tutto quello che l'autore non ha voluto o non ha potuto esplicitare ma in un certo qual modo ha dato delle segnalazioni che il traduttore deve recepire e attribuire evidentemente a queste segnalazioni un senso i latini non usavano l'equivalente dell'italiano tradurre che nasce come viene da traducere no, non usavano questo verbo, usavano il verbo vertere che è il verbo della metamorfosi cioè vertere significa cambiare aspetto, cambiare forma sottintendendo quindi che la traduzione è sempre un prodotto storicamente determinato e che il traduttore ha evidentemente di fronte a sé un problema procede da delle congetture per arrivare ad una soluzione che non è mai la soluzione definitiva perché il testo è aperto e perché le soluzioni sono o comunque la traduzione ha soluzioni molteplici e mai appunto del tutto definitive d'altra parte se prendiamo un'edizione critica di un testo che riporta la stratificazione delle traduzioni nel corso del tempo beh vediamo evidentemente possiamo capire quale è anche il tormento del traduttore che evidentemente non è mai soddisfatto di se stesso ma deve sempre affrontare diciamo nuove sfide perché perché il destinatario cambia e quindi evidentemente l'attenzione è anche alla comunicazione rivolta a un nuovo lettore e a un nuovo pubblico l'attività del tradurre cammina insieme allo sviluppo delle civiltà o per meglio dire le civiltà sono un incessante processo di traduzione basti pensare a certi movimenti epocali come l'elenismo che è un periodo delle grandi letterature di traduzione se pensiamo che la stessa letteratura latina nasce da una traduzione la traduzione dell'odissea da parte di Livio Andronico e poi l'umanesimo l'umanesimo per cui l'atto del tradurre diventa un atto fondativo e formativo un contatto vivente tra mondi contemporanei ma anche un dialogo tra presente e passato dove peraltro il presente si viene ridisegnato sulla base del contatto della lettura della traduzione dei classici classici che contemporaneamente vengono salvaguardati dall'usura del tempo ma per essere diciamo anche più parlare insomma di una di un periodo più vicino a noi pensiamo all'incidenza che ha avuto nella cultura italiana dell'immediato dopo guerra secondo dopo guerra la traduzione degli scrittori americani dopo gli anni della dittatura che fu anche una dittatura culturale e oggi? Beh oggi credo che la traduzione abbia anche oltre che un significato culturale e letterario significato politico dando a questo termine l'accessione diciamo più nobile perché in un mondo globalizzato per accogliere in una nuova oicumene in una polis comune questi popoli che premono per farvi parte per entrare per conoscere profondamente la loro anima e la loro cultura bisognerà anche tradurre le opere le loro opere dalla lingua loro originale io vi auguro un buon pomeriggio ringrazio di nuovo tutti i partecipanti e mi scuso perché tra non molto dovrò assentarmi grazie ringrazio moltissimo Patrizio Salomoni per questo ampia cornice che ci ha fornito le riflessioni che seguiranno le presentazioni direi che come dire ha veramente fornito del materiale sul quale poi potremo anche confrontarci mi auguro passiamo ora alla presentazione di alcuni volumi che parlano di traduzione ma parlano di traduzione in una modalità particolare se vogliamo visto che il panorama che c'è oggi di letteratura sulla traduzione è veramente permettetemi il termine un überschaubar siamo veramente immersi in una mare in un oceano di pubblicazioni di studi che ci sommergono i volumi che presentiamo qui oggi hanno un tratto che li accumuna e che li rende anche diciamo così un po' particolari perché non raccontano parlano di traduzione ma raccontano soprattutto la storia e le vite di traduttori e traduttrici si concentrano su questo particolare pongono al centro della loro riflessioni delle loro attenzioni la narrazione che altri studiosi hanno fatto che non rinunciano alla riflessione critica sui prodotti che si trovano di volta in volta a manipolare ma che concentrano primariamente la loro attenzione ai dati con i quali circondare i prodotti traduttivi ovvero raccogliere tutti quei materiali che fanno parte della vita di chi le traduzioni le ha prodotte e tutti quegli elementi che queste traduzioni le hanno anche condizionate e quindi abbiamo epistolari abbiamo autobiografie abbiamo documenti d'archivio abbiamo lettere di case editrici abbiamo testimonianze di collaboratori o di persone che in qualche misura hanno contribuito questo scavo documentario è utilissimo è fondamentale oserei dire per considerare nella loro integrità le traduzioni che non sono più soltanto un testo originale messo a fronte di un risultato diverso ma sono opera di persone di autori così come ci interessa la vita di scrittori scrittrici di poeti e di poete anche nel loro dettaglio biografico anche in certi particolari minuti altrettanta attenzione viene dedicata alla vita dei traduttori e i libri di cui sentiremo parlare restituiscono proprio questi tasselli di questa storia per tessere poi anche un mosaico più ampio di quelle che sono state per esempio le vicende editoriali italiane del novecento le politiche scolastiche le politiche culturali fortemente determinate da questi personaggi per introdurre questi questi interventi su questi volumi vorrei ricordare che è stato pubblicato ricordando Claudio Groff fuori sul tavolino ce ne sono delle copie che voi possiate prenderle dove sono raccolti gli interventi della prima edizione del premio ecco in questo caso si era cercato di ricostituire la genealogia di Claudio Groff parlando in forma diffusa e documentata sia del nonno che del padre entrambi traduttori pur con connotazioni molto diverse entrambi appassionati l'uno di linguistica e dialettologia l'altro poeta in proprio per come dire dare anche spessore a una figura nella sua formazione in quelle che sono state le sue tradizioni anche familiari è stato poi arricchito questo questo volumetto con uno scritto di Claudio Groff inedito su Thomas Bernard Purtroppo Claudio sarà una delle ultime persone di cui raccoglieremo ancora materiali inediti perché ancora scriveva a mano agli inizi di fatti questo è un dattilo scritto che io ho trovato fra i suoi materiali tutto il resto quello che è rimasto nel suo computer nelle sue memorie non c'è più e questo probabilmente accadrà a moltissimi di noi tutta la nostra corrispondenza nessuno la stampa anche perché c'è sempre questo avviso minaccioso risparmia la carta per cui è sufficiente un alito di vento e non c'è più nulla ecco per cui tantissimi materiali che in questi libri di cui parleremo troviamo e che diventa veramente prezioso in futuro non ci sarà più questo testo di Bernard di Claudio fra il resto apre un interessante finestra su quanto lui fosse vicino agli autori di cui si occupava di quanto li come dire li considerassi anche nella loro totalità di autori di scrittori e il suo lavoro di traduttore lui stesso tradusse Bernard che era uno dei suoi autori preferiti era preceduto proprio da uno scavo anche nel tempo poi ha rinunciato a scrivere quelle che erano le sue impressioni che erano le sue letture quello che scopriva negli autori lo metteva nella traduzione ma naturalmente diventa molto più difficile andare a ricostituire questo tessuto un'altra cosa che è presente nel volume è la bibliografia di scritti di traduzioni sue e di scritti recensioni su di lui ne possiamo dedurre questo ha lavorato tantissimo c'è un elenco infinito di traduzioni di riedizioni di revisioni che lui ha operato e quindi 40 anni di attività effettivamente si condensano in un elenco di di opere per quanto riguarda i suoi rapporti personali con gli autori che lui traduceva penso quello con Guentagrassa penso agli stretti legami che aveva con Peter Hunt che purtroppo si sono salvate poche cartoline nulla nulla più invece i rapporti erano molto più intensi ecco questo è compito credo nostro di chi si occupa andare a raccogliere ancora e conservare quello che c'è per poterlo conservare mi si mi dicono che Alice buonasera è arrivata ovvero la persona con lei che stavamo attendendo per cui forse potremmo riprendere l'ordine diciamo così previsto dei lavori e ritornare e ritornare alla conferimento del premio questo premio è appunto il secondo noi avevamo avuto una prima edizione vinta da Teresa Ciuffoletti nel 2020 con l'amore all'inizio di Judith Herrmann editore dell'Orma nel 21 il premio essendo biennale taceva ma noi non abbiamo voluto come dire lasciare vuota la ricorrenza per cui è stato organizzato un convegno sulla traduzione la traduzione sommersa l'abbiamo intitolato ovvero un convegno in cui si è parlato di tutte quelle traduzioni che non hanno ancora visto la luce che per i motivi più diversi sono rimasti nei cassetti degli autori degli editori degli eredi e o sono state date per disperse se ne ha traccia solamente nella in diretta in lettere testimonianze eccetera e la cosa come dire molto più questo mare sommerso di materiali è molto più ricco di quanto non pensiamo credo che anche il professor Ciapla questa sera ce ne parlerà perché anche lui ha fatto una scoperta veramente molto interessante indipendentemente dal nostro convegno ma questo ci conferma nella validità del tema che era stato proposto quest'anno tocca di nuovo al premio per l'appunto e quindi adesso vorrei dare la parola a Michele Sisto che ci racconterà del lavoro intenso che ha curato insieme al giurate Margherita a Carbonaro e qui presente e ad Avigliani che ci segue da remoto che hanno svolto e ci dirà appunto a quali conclusioni sono arrivate brevemente per chi non li conoscesse vorrei però presentare i tre giurati Michele Sisto qui al mia sinistra è professore di letteratura tedesca all'Università di Chieti Pescara e da sempre si occupa di letteratura tedesca che considera una parte integrante del repertorio della letteratura italiana non è un caso che appunto lui sia qui con noi proprio per questi suoi studi specifici è stato coordinatore nazionale del progetto storie e mappe digitali della letteratura tedesca in Italia nel novecento quindi editoria campo letterario interferenza gli autori di cui si è occupato gli autori tedeschi sono moltissimi Goethe Bichner Krauss Anders ma soprattutto anche i loro mediatori italiani e altri mediatori che hanno lavorato perché la letteratura tedesca diventasse patrimonio dei lettori italiani Benedetto Croce Cesare Cases Lavinia Mazzucchetti Enrico Filippini e altri Margherita Carbonaro l'altra nostra giurata traduce letteratura tedesca e lettone ha tradotto molte opere di autori tedeschi contemporanei e classici del novecento una serie di nomi Hertha Müller Thomas Mann Max Frisch Uwe Thiem Ingo Schulze da alcuni anni si occupa anche di letteratura lettone poi magari ci dirà perché che desidera far conoscere in Italia ha ricevuto numerosi premi per le sue traduzioni un premio molto importante nel 2018 per le traduzioni dal lettone e nel 2022 quindi recentissimo ha avuto il premio alla carriera alla tredicesima edizione del premio italo-tedesco per la traduzione Ad Avigliani che salutiamo tutti dallo schermo ha tradotto e traduce anche lei classici sia contemporanei che naturalmente classici storici Goethe Schopenhauer Musil Canetti Broches Zweig e Appenbecht e si deve a lei l'opera completa di Sebald in italiano credo che sentire questi nomi vuol dire come di farsi l'idea che quello che noi leggiamo sappiamo di letteratura tedesca molto lo dobbiamo a queste due traduttrici moltissimo l'elenco di Ad Avigliani è veramente infinito anche lei ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali fra cui ricordo nel 2016 il premio italiano-tedesco per la traduzione letteraria nel 2017 il premio strega europeo e nel 22 anche lei il premio Giovanni Emma Luisa Enriques affianca a questa attività veramente immensa anche un intenso lavoro di docente e di riflessione critica ora lascio la parola a Michele finalmente grazie scusate grazie mille a Paola a Paola Maria Filippi che è davvero l'anima di questo premio e a tutta l'Accademia degli Agiati che ha fatto un enorme e efficientissimo sforzo organizzativo per organizzare il premio e per far avere alla giuria i libri dei candidati i pdf degli originali tedeschi e per seguire per aver seguito i lavori da vicino e con grande cura e attenzione inviterei Margherita Carbonaro ad accomodarsi a sua volta qui al tavolo così insieme a Dada Vigliani che in collegamento da remoto la giuria è rappresentata al completo e faccio soltanto una piccola chiosa alla presentazione che ha fatto Paola Maria Filippi spero non me ne vorrà ha detto come l'apsus che intendo la letteratura tedesca come parte integrante di quella italiana che detta così sembra una cosa surreale in realtà c'era scritta era da leggere letteratura tradotta cioè l'idea è che le traduzioni le studio le studiamo con un grande gruppo di ricerca che ormai ha un po' di tempo le studiamo come parte integrante della letteratura italiana cosa che nei manuali di storia letterale italiana ancora non è ma ci piacerebbe che un giorno fosse e ci chiediamo come realizzare una cosa del genere come ottenere una cosa del genere quali traduzioni inserire in una storia della letteratura italiana intanto è lecito pensarla così e se sì come la si può attuare questa nuova visione di una letteratura che ingloba anche tutto ciò che è stato tradotto in quella lingua in quella cultura a me l'onere è il piacere anche di riferire i lavori che si sono svolti nella giuria negli scorsi mesi e me ne faccio portavoce l'edizione di quest'anno del premio Groff è stata caratterizzata per quanto riguarda le candidature da alcune circostanze che ci hanno condotti a fare alcune riflessioni che vi sottopongo ci piaceva proprio condividerle nonostante l'intensa pubblicizzazione del premio il rinvio della scadenza del bando e nonostante le traduzioni letterarie dal tedesco apparse nel corso degli anni 2020-2021 siano stimabili non meno di 200 le candidature pervenute non si sente? Ah vicino di più ok tengo più vicino grazie abbiamo notato dicevo nella giuria che le traduzioni dal tedesco pubblicate nei due anni a cui fa riferimento il bando possono essere stimati in un paio di centinaia quindi non poche e il premio è stato ampiamente pubblicizzato la scadenza del bando è stata anche rimandata ciò nonostante le candidature che ci sono arrivate sono state molto poche 5 il primo dato che sarebbe opportuno discutere pubblicamente magari facendo appello anche agli studiosi che prenderanno parte alla tavola rotonda che si terrà successivamente la premiazione è un dato dunque numerico perché così poche candidature sono pochi i traduttori letterari dal tedesco con meno di 45 anni o ci sono altre ragioni che dissuadono i potenziali candidati dall'inviare le loro opere poiché la scarsità di candidature di traduttori dal tedesco non riguarda solo il premio Groff consideravamo con Margherita Carbonara e con Ada Viviani che fanno parte della giuria di altri premi letterari che anche in quelle altre sedi le candidature sulla letteratura tedesca sono poche effettivamente in particolare sotto i 45 sotto i 40 anni allora occorre chiedersi se non sia necessario ripensare e ovviamente sono fatto portavoce di questa dirigenza con Maria Filippi con l'Accademia degli Eggiati la formula del premio e ci stiamo pensando inoltre la maggior parte dei 5 candidati è alla sua prima traduzione o al massimo alla seconda il che significa anche in presenza di un evidente talento di qualità nel tradurre che difficilmente il traduttore ha accumulato l'esperienza indispensabile per produrre una traduzione eccellente e anche su questo sul fatto che gli under 45 che si sono candidati siano molto spesso anche degli esordienti quindi è meglio così sì ok su questo dato che gli under 45 che si sono candidati siano per lo più degli esordienti quindi alla loro prima traduzione o quasi è utile a nostro parere interrogarci il secondo dato riguarda la qualità delle candidature sono pervenute alla giuria due volumi di poesia uno di racconti uno di teatro e un fumetto quattro di questi sono pubblicati da piccoli editori uno da un grande editore nazionale si tratta per la gran parte di opere interessanti e bene merite per l'intenzione che anima editori e traduttori la scoperta di poeti sconosciuti al pubblico italiano la riproposta di testi di notevole interesse storico o culturale l'esplorazione di un genere relativamente nuovo come la graphic novel il meritorio completamento della traduzione del teatro di un autore canonico come Thomas Bernard tuttavia perfino in quest'ultimo caso in cui l'operazione si inseriva in un contesto editoriale solido come quello della casa editrice in Audi la giuria ha creduto di notare scarsa attenzione al lavoro di revisione questo è un problema annoso che emerge per esempio nel libro curato da Paola Mazzarelli in cui ci sono numerose interviste a traduttori e molti di loro si lamentano di una scarsa interlocuzione da parte della casa editrice e dei revisori professionali il lavoro di revisione scusate se lo possiamo considerare appena sufficiente per Bernard si è rivelato decisamente scarso quando non inesistente per le altre opere candidate l'honore dunque sembra essere rimasto così più o meno interamente sulle spalle dei traduttori che non hanno avuto un interlocutore professionale con cui la maggior parte dei casi non hanno avuto un interlocutore professionale con cui confrontarsi in merito alle scelte stilistiche ai registri linguistici oltre che sulle soluzioni specifiche per i passi più difficili da rendere in italiano anche questo dovrebbe indurre una riflessione generale sulle condizioni in cui lavora la maggior parte dei traduttori in Italia non solo al tedesco che il traduttore si trovi di fatto molto spesso a lavorare da solo non è certo una novità ma sembra che questa solitudine che non può che nuocere la qualità finale del testo sia diventando la norma anche in realtà editoriali consolidate e ben articolate al loro interno per questi motivi la scarsità delle candidature la presenza di molti esordienti e le carenze nella revisione editoriale dei testi la giuria ha dovuto prendere atto che nessuna delle traduzioni presentate possiede il livello di qualità sufficiente a meritare un premio intitolato a un traduttore straordinario quale è stato Claudio Groff ha dunque deciso che il premio Groff 2022 non venga assegnato d'altra parte poiché si tratta di un premio nato per segnalare e incoraggiare i traduttori giovani ha ritenuto opportuno assegnare almeno uno dei premi riservati al secondo e terzo classificato e di attribuirlo al più promettente fra i cinque candidati dell'edizione 2022 con l'auspicio che il premiato possa sviluppare le notevoli doti di cui ha comunque dato prova e con questo c'è la parola a Margherita Carbonaro che ci parlerà appunto del premiato il mi sentite bene il secondo e unico classificato in questa seconda edizione del premio Claudio Groff è Alice Gardoncini con il volume Teatro 6 di Thomas Bernhardt pubblicato nel 2021 da Einaudi il volume che contiene anche traduzioni di Umberto Gandini completa la traduzione integrale delle opere teatrali di Bernhardt avviata da Ubu Libri negli anni Ottanta e contiene testi di grande importanza come Heldenplatz Piazza degli Eroi Alice Gardoncini si è addottorata in letteratura comparata all'Università di Udine con una tesi che è stata poi rielaborata nel volume Tradurre la luna i romantici tedeschi in Tommaso Landolfi 1933-1946 pubblicato da Quadlibet nella collana letteratura tradotta in Italia si occupa di traduzione storia dell'editoria del Novecento e didattica delle tecniche editoriali ha scritto saggi scientifici su Thomas Bernhardt collabora con diverse case editrici tra cui Adelphi e insegna all'Università di Udine dove attualmente tiene il corso di editing e tecniche di redazione lettere per l'editoria nell'ambito del quale ho organizzato due cicli di incontri con esperti del settore invitando tra gli altri Domenico Scarpa Roberto Keller Francesco Guglieri ha collaborato con la rivista Tradurre Teorie, Pratiche e Strumenti e con l'Indice dei Libri del Mese quella di Bernhardt è la sua prima traduzione a cui è seguita nel 2022 quella del saggio di Dan Diner Tutta un'altra guerra il secondo conflitto mondiale e la Palestina ebraica 1935 1942 per bollati boringhieri la giuria riconosce il coraggio e l'impegno di Alice Gardoncini nell'affrontare opere di grande difficoltà la lingua di Thomas Bernard rappresenta una sfida anche per un traduttore esperto nonostante qualche discontinuità nel risultato delle versioni presenti del volume teatro 6 in cui a passaggi ben risolti si alterano soluzioni più deboli per quanto riguarda il senso e il ritmo dell'originale la giuria ha constatato che fin da questo lavoro di esordiente Alice Gardoncini ha cercato e saputo trovare la sua voce per rendere il testo la esorta pertanto a continuare a misurarsi nella traduzione per affinare il suo talento pregherei adesso Alice Gardoncini di venire qui al tavolo e di la consegna del premio purtroppo che avrebbe dovuto avvenire di persona non ci sarà vista l'assenza di Fabrizio Groff ma naturalmente le assicuriamo che il premio lo riceverà non abbia non abbia timore grazie mille a tutti sono molto contenta di sentire quello che quello che avete che avete detto riconosco che in effetti le problematiche ci sono e sono state e il lavoro è stato un lavoro molto impegnativo che in effetti un lavoro molto impegnativo su un autore che io amo molto e conosco diciamo da studiosa e da revisora e già prima insomma di cimentarmi con la traduzione appunto avevo lavorato su testi di Bernard soprattutto come appunto facendo queste famose revisioni di traduzione che di cui appunto della cui mancanza la giuria ha lamentato la mancanza e in effetti posso confermare che la revisione è insomma qualcosa di fondamentale e quando non c'è o viene fatta in modo appunto senza confronto con i testi originali eccetera ovviamente si si insomma si capisce si vede insomma è un problema reale e detto questo insomma per me il poter lavorare a questo a questo volume ha significato insomma una grande una grande occasione anche molto molto interessante che insomma mi ha fatto diciamo pensare di voler effettivamente provare a a fare la traduttrice diciamo sul serio o insomma almeno provarci e chiaramente non è insomma esordire con un autore così importante e insomma chiaramente insomma poteva poteva insomma andare andare diversamente però la cosa ha significato da un lato ovviamente una grande difficoltà e in alcuni casi appunto qualche qualche scivolone come immagino avrete insomma come come si vince dalla lettura ma dall'altra parte anche una grande insomma una grande possibilità insomma è stato per me molto molto importante e non so se si suppone che legga qualche passaggio e magari prendo la mia copia perché ho segnato eccoci eccoci esatto ho selezionato alcuni passaggi che secondo me rendono l'idea diciamo di una delle caratteristiche principali dei testi raccolti in questo volume che a mio avviso appunto che ovviamente sono stati cioè il volume raccoglie gli ultimi testi rimasti dalla pubblicazione del teatro completo quindi non c'è stata una una scelta ma si è trattato di raccogliere tutte le opere rimaste ovviamente l'opera del teatro intesa nel senso ampio aveva un suo senso e i testi rimasti avevano una loro coerenza interna i testi si parlano e hanno alcuni alcuni tratti in comune sono tre opere cioè diciamo drammi lunghi e tutti i dramoletti che sono appunto questa forma questa forma breve di teatro di atti unici spesso molto appunto satirici parodici eccetera e il tema principale che mi è sembrato di vedere nei vari nei vari contributi raccolti in questo in questo volume è quello da un lato appunto quello della celebrità della fama di che cosa significa essere famosi il teatro di Bernard è sempre un teatro che parla un teatro ricorsivo diciamo che parla di arte che parla di che cosa significa fare teatro o fare letteratura come insomma in parte tutta l'opera di Bernard ma nel teatro in particolare e quindi uno dei tratti caratteristici di questi di questi drammi è di parlare anche mentre diciamo le varie i vari insomma le varie storie vengono presentate e si sosseguono parlare anche di che cosa significa fare teatro e di che cosa e di che cosa significa essere un artista famoso insomma e quindi vi leggo tre brevi estratti allora il primo a partire dal primo dei drammi che si chiama Le celebrità in cui si parla di che cosa significa di che cos'è il vero artista e ovviamente vabbè scusate non sono un'attrice quindi non avrò insomma leggere teatro senza insomma perdonatemi il vero artista è continuamente in conflitto con la sua arte e questo è il basso che è il protagonista diciamo di questo primo dramma e a quel punto interviene l'editore e commenta le persone davvero attive sono quelle che vengono stimolate dalle difficoltà e il basso ben detto il vero artista percorre la strada che altrimenti nessuno percorrerebbe quella più difficile quindi il ruolo di artista come colui che appunto percorre la strada più difficile commenta l'attore a questo punto è continuamente in una situazione di conflitto e il basso a questo punto qui insomma diciamo si svela la vena comica del passo perché il basso commenta ed è solo giusto che si faccia pagare bene per questo ma certo le tasse si divorano tutto le tasse divorano tutto quindi l'idea è da una parte insomma viene presentato il grande artista come appunto colui che percorre le strade più ardue ma poi si finisce nella chiacchiera c'è questo ribaltamento del personaggio diciamo che dovrebbe parlare solo di cose eccelse e che finisce poi a parlare di tasse e di appunto quanto poco vengono pagati gli artisti eccetera e poi continuerà dicendo che bisogna sempre pretendere tre volte tanto quello che viene proposto quindi insomma ovviamente continua su questo tenore e un altro passo dal secondo dei drammi raccolti che su tutte le vette è pace e di nuovo si parla del ruolo dell'artista e il personaggio principale del dramma a un certo punto parla di che cosa significa appunto scrivere scrivere e commenta a un fabbricante di marmellata potete chiedere tutto quello che c'è dentro la sua marmellata ma un poeta non potete chiedere che cosa c'è nella sua poesia non è vero signorina Werdenfels è proprio così no? tutto quanto ha molto a che fare con la musica rinvio sempre a Beethoven eccetera eccetera e poi poco dopo mio marito qui parla la moglie del del protagonista e e a questo punto si insomma si descrive un tratto che è tipico del personaggio in questione ma ovviamente anche di Thomas Werner e qui il carattere diciamo di metadiscorsività perché chiunque all'epoca al momento in cui Werner scrive questo dramma è già molto celebre e quindi chiunque in questa descrizione riconosce la figura dell'autore e e la signora Meister comunica mio marito è un uomo felice lo scriva tranquillamente signor von Wegener tutti scrivono che sempre che è tetro invece nessuno è divertente come mio marito forse perché le persone non riescono a immaginarsi che uno scrittore un poeta che scrive di cose serie possa ridere e quanto può ridere mio marito questo lo dica anche lei signorina Werdenfels signorina Werdenfels è una studentessa che scrive sta lavorando a una tesi di dottorato sul sull'autore siccome lei ora lo conosce mio marito i giornali scrivono sempre solo di un uomo tetro invece mio marito è tutto il contrario di tetro con un uomo come quello che scrivono i giornali non avrei convissuto nemmeno un giorno non è vero Moritz non sei affatto tetro naturalmente sono del tutto diverso da come mi rappresentano in effetti c'è molto di me in Stiglitz che è il personaggio di cui parla l'opera di cui parla il dramma ma la rappresentazione è sempre diversa lo scrittore è sempre diverso da come viene rappresentato non è mai quello di cui scrivono i giornali vogliono avere un tetro dunque io devo essere il tetro annuncia ciò che è rappresentato è una falsificazione se l'opera ride il poeta piange e viceversa è tutto sempre di nuovo al contrario è falso dice Stiglitz quindi insomma questo diciamo come una sorta di autocommento e per concludere nell'ultimo in uno dei dramoletti in cui Thomas Werner compare non solo come autore ma anche come un personaggio tant'è che la didascalia appunto riporta proprio non il nome dell'autore ma semplicemente io in uno di questi dramoletti c'è questo questo scambio tra Thomas Werner io e Klaus Peiman che insomma diciamo il regista che ha avuto un lunghissimo sodalizio artistico con Thomas Werner che incita insomma in questo dialogo si fa personaggio dell'opera e appunto parla direttamente a Bernard personaggio e dice e con questo credo di andare a concludere lei è un nano della poesia Bernard io sono un nano della regia Herman è un nano della scenografia in confronto a questa Austria perché tutto il discorso che sta facendo sta parlando di che cos'è l'Austria e l'Austria è il teatro del mondo se qualcuno mi chiede dove sia il migliore teatro del mondo io rispondo sempre l'Austria dico l'Austria al che la gente domanda sempre dove in Austria e io rispondo non in Austria ma l'Austria e l'Austria stessa e a tutti dico andate in Austria e arriverete nel migliore teatro del mondo prendetevi dei biglietti buoni dico a tutta questa gente prenotate una camera all'Imperial o al Bristol al Zachero all'Ambassado e godetevi il teatro più pazzesco del mondo dico a tutta questa gente che naturalmente rimane allibita e io che pensavo dice tutta questa gente che il teatro più pazzesco fosse quello dove lavora lei signor Paimon e siccome ora lei lavora al Burke Theater il migliore teatro del mondo da ora in poi sarà il Burke Theater no no dico io non sono io non è neppure il Burke Theater è l'Austria l'Austria è il miglior teatro del mondo e così via insomma come potete immaginare grazie prima di congelare Alice chiederei a Ada Vigliani che è collegata da remoto se ha voglia di prendere la parola visto che ha partecipato ai lavori della giuria e se vuol dire brevemente qualcosa la motivazione della giuria è stato un lavoro collettivo e quindi parte di quelle osservazioni le ho fatte anch'io quindi è all'unanimità che abbiamo dato questo giudizio quello che posso dire ad Alice Garroncini che conosco perché lavora per Adelvi fare visione eccetera è che è di perseverare in questo lavoro di traduttrice credo che sia che ci sia una vocazione insomma o partecipando al seduto giurata per altri premi mi è capitato insieme alle mie cogiurate diciamo così di leggere dieci righe o dieci pagine proprio se si vuole essere un pochino più generosi e poi di constatare no qui non c'è assolutamente stoffa non c'è speranza e questi e ci sono questi casi mentre gli errori il calco le ingenuità e tutte queste cose con il tempo possono passare con l'aiuto di quali editori e anche proprio con l'aiuto del mestiere all'attere che Alice sta facendo come revisore editoriale che sicuramente può essere anche molto d'aiuto per capire come si comportano i traduttori ecco dove scivolano i traduttori e dove non deve scivolare lei oppure dove fanno bene i traduttori e dove magari bisogna evitarli quindi il mio è un caloroso incoraggiamento a continuare su questa strada so che sta lavorando anche per Sellerio e quindi spero che davvero la letteratura tedesca possa trovare dei giovani traduttori perché i giovani sono veramente pochi e poi nella tavola rotonda avremo occasione di parlare di come mai gli editori preferiscono l'usato sicuro invece di lanciarsi come facevano molto spesso tantissimi anni fa con dei giovani cercando di farli crescere ecco questo è quanto volevo dire ad Alice ringrazio tutti i miei cogiurati Michele e Margherita grazie Ada Alice mi permetto ho chiesto il permesso di fare una domanda visto che ti abbiamo qui certo e hai accennato anche tu al problema della revisione ti sei trovata da tutte e due le parti a fare da revisore di testi altrui traduzioni altrui e a fare da traduttrice avendo a che fare con un revisore senza comprometterti potresti dirci qualcosa di questa doppia esperienza di come ti sei trovata e di che cosa secondo te sta succedendo nell'editoria di oggi se sta succedendo qualcosa sì grazie allora il problema della revisione fatta come deve essere fatta ovvero con il tempo che richiede da una persona che conosca la lingua originale è appunto una questione a mio avviso banalmente di economica nel senso che spesso non c'è il budget da dedicare a un determinato titolo per fare la revisione che andrebbe fatta io lavoro come faccio revisioni per una casa editrice che paga molto sia il lavoro di traduzione sia il lavoro di revisione ma parlando anche con colleghi con altri generalmente le revisioni non vengono o non vengono fatte perché semplicemente quella voce se togliendo quella voce diciamo ovviamente si toglie una voce quindi il libro costa meno o vengono pagate anche molto meno di quanto dovrebbero essere pagate dunque ovviamente il tempo da dedicare a quel lavoro è minore semplicemente quindi io direi che è proprio un ragionamento di questo tipo probabilmente sul sul tedesco c'è il problema ci sono due problemi da un lato ci sono meno persone che lavorano in editoria che conoscono il tedesco dal lato ci sono vendute meno coppie di opere tedesche cioè forse la letteratura tedesca in questo momento non è una letteratura a meno di non andare su casi appunto parlando di Ebaldo o di insomma autori abbiamo citato tutti autori grandi autori però come diciamo all'interno del mercato della letteratura contemporanea forse non gode in questo momento di una di un ottimo nomea non lo so insomma ci sono varie questioni di mercato che adesso non sono non sarei in grado di delineare però e credo che sia l'unione tra questi due fattori a sì probabilmente ad abbassare a diminuire il tempo che si dedica che si è disposti a insomma a dedicare a quel lavoro e quindi di conseguenza anche alla qualità io credo in generale posso dire che lavorando sulla revisione il lavoro di revisione è un appunto è un lavoro di confronto con il traduttore io sono entrata appunto nel mondo della traduzione da questo ingresso laterale quindi senza appunto lavorando prima sulla lettura delle traduzioni altrui e questo mi insomma da un lato per me ha significato di fatto cioè sì un lavoro editoriale ma anche per la mia formazione insomma per quello che poi ho fatto come studiosa diciamo ha significato un tipo di lettura della traduzione o di un testo tradotto molto particolare quindi per me ha significato quello ha significato farsi sempre cioè mettere in questione sempre ogni 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 frase ogni soluzione insomma nella nella prima lettura e quindi diciamo mi ha aperto la strada per la la critica insomma poi non vorrei usare dei paroloni però nel nel mio piccolo alla mi ha spinto a voler insomma leggere le traduzioni in un modo più critico di quello che normalmente avrei fatto e quindi mi ha dato questa ha dato al mio al mio lavoro credo anche proprio di scrittura questo un occhio insomma in più da quel punto di vista e ovviamente quando poi si traduce diciamo si passa dall'altra parte quindi insomma mi sarebbe piaciuto molto poter avere un confronto con la me stessa negli altri panni insomma però un discorso un po arzico golato però insomma magari succederà in futuro e insomma me lo auguro e grazie per l'incoraggiamento a tutti insomma continuerò spero e insomma sperando di fare meglio grazie a te e ancora congratulazioni da parte di tutta la giuria e direi di tutti i presenti Alice riprendiamo il filo del discorso per le presentazioni dei nostri libri dove ci eravamo interrotti ovvero al primo volume per il quale chiamo al tavolo Anna Antonello che ci parlerà di un suo libro che ancora non c'è che è in corso di stampa che attendiamo tutti ansiosamente di cui ho visto le bozze qualche mese fa e che racconta la vicenda di Lavinia Mazzucchetti Lavinia Mazzucchetti vita e opere di una traduttrice riluttante per Quotlibet che come ha detto saranno uscite i prossimi mesi Anna Antonello è ricercatrice presso l'Università di Chieti Pescara ha conseguito il dottorato di ricerca in filologia moderna presso la Dubin Maximiliams Universität di Monaco di Baviera in co-tutela con l'Università degli Studi di Bavia i suoi ambiti di ricerca comprendono la storia della stampa e dell'editoria e la letteratura italiana e tedesca del ventesimo secolo in particolare sono state analizzate da lei alcune importanti figure di intellettuali italiani e il ruolo delle riviste letterarie nello scambio culturale inter-europeo oggi ci presenta questo volume nel quale condensa anni di studi di convegni di ricerche e che parlerà dialogherà questo libro con il secondo di cui sentiremo parlare il suo amore possiamo chiamarlo così per la vigna Mazzucchetti è testimoniato dal nome che ha dato alla sua bambina ovvero la vigna quindi credo che questo ben ci dica quanto diciamo abbia convissuto e conviva con questo personaggio per Eguana forse troppo grazie grazie mille per la presentazione non so se tu volevi magari faccio qualche domanda per rendere più dialogata la presentazione di questo libro intanto partirei da come ti sei avvicinata a Lavinia Mazzucchetti e cosa rappresenta per te e come sei arrivata a fare una biografia intellettuale e non solo perché è una biografia in un senso pieno di Lavinia Mazzucchetti in un momento in cui gli studi sulla traduzione stanno arricchendosi via via e finalmente cominciano ad esserci biografie di traduttori sono molto rare se ci pensiamo le biografie di traduttori non solo in Italia anche all'estero non sono personaggi a cui di solito si dedica un intero libro la ricostruzione della vita e questo è uno dei primi direi quindi come dire sei una prepista da un certo punto di vista ma allo stesso tempo nel titolo ha inserito una sorta di caveat perché il titolo è nel volume Lavinia Mazzucchetti vita e opere di una traduttrice è riduttante non più è vero scusa però siamo partiti da qui perché il rapporto tra Lavinia Mazzucchetti è la traduzione la definizione di traduttrice è problematico quindi questo libro è allo stesso tempo la biografia di una traduttrice ma di una traduttrice che non vuole essere identificata solo come traduttrice giusto a te la parola grazie allora intanto vorrei precisare che c'è stato molto lavoro da fare su Lavinia Mazzucchetti perché c'è tutto un suo fondo personale quindi tutta una corrispondenza personale professionale custodita presso fondazione Mondadori quindi insomma di materiale ce n'era davvero moltissimo mi sono imbattuta in Lavinia Mazzucchetti nel mio lavoro di tesi specialistica quando ho lavorato sul convegno che era una rivista milanese fondata da Enzo Ferrieri nella quale come vedremo più avanti collaboravano due traduttori due germanisti di spicco che sono Lavinia Mazzucchetti e Vincenzo Errante che fin da subito entrano in conflitto l'uno con l'altro Lavinia Mazzucchetti mi ha interessato devo essere sincera fin dall'inizio perché è molto molto spiritosa scrive delle lettere dei pareri editoriali che fanno venire voglia ecco di studiare di avvicinarsi non solo a lei ma soprattutto alla letteratura tedesca di cui attraverso i contatti che ho sempre avuto con Fondazione Mondadori e con i giusti incoraggiamenti ho deciso di cimentarmi in questa biografia che non è forse sì spero che non sia una biografia tradizionale cronologica noiosa diciamo ma penso che come spiegavo poco tempo fa definire Lavinia Mazzucchetti noiosa impossibile insomma anche col mio stile di scrittura non brillante prendendo i materiali appunto biografici e autobiografici direi che mi è stato rivelato spero insomma anche ai lettori un personaggio di una donna davvero incredibile che ho cercato di studiare su due fronti da un lato per il suo lavoro nell'editoria Lavinia Mazzucchetti appunto non voleva essere definita soltanto traduttrice perché le sembrava un termine come dire un po' troppo povero un po' troppo poco ambizioso per tutto quello che lei avrebbe voluto fare ed è anche riuscita a fare studia letteratura lingua letteratura tedesca e studia il tedesco in realtà come lingua inizialmente perché è interessata alla filosofia tedesca segue i corsi di Piero Martinetti alla Reale Accademia Scientifico-Letteraria teme non oso studiare filosofia è anche una donna pratica insomma dice per trovare poi un lavoro preferisco poter avere la possibilità di insegnare una lingua e dice nel tedesco ci sono talmente tanti asini che secondo me è la strada giusta da seguire non è modesta Lavinia Mazzucchetti ecco forse questa è stata la sua fortuna quindi studia il tedesco e poi si trova a mio avviso nel posto giusto al momento giusto lei vince una borsa di studio studia a Monaco di Baviera e seguendo un po' le scie di quello che diventa in quel periodo l'ordinario di letteratura tedesca a Milano quindi borgese che si era occupato della letteratura tedesca contemporanea capisce che è lì che vuole andare a parere dopo essersi occupata di scillo diciamo decide che vuole occuparsi della letteratura contemporanea e lì c'è da dire che ha un grande aiuto da parte di una sua amica filologa di Grazia austriaca tale Dora Mitzky che nel momento in cui le viene offerta un ruolo da reporter diciamo da corrispondente dall'estero al secolo che era allora il giornale socialista milanese per eccellenza decide appunto di scoprire chi erano davvero questi autori non solo che cosa scrivevano ma che cosa facevano e chi erano perché ecco per la vigna Mazzucchetti la letteratura o qualsiasi opera letteraria era soprattutto un dialogo con l'autore quando lei lo leggeva voleva capire il personaggio voleva capire perché era stato scritto così in che momento cosa aveva fatto che mondo aveva costruito l'autore e cosa di suo c'era lì dentro ecco potrei andare avanti forse un po' troppo mi racconto tutto il libro c'era la domanda ecco forse questa da chiarire il titolo alla fine inizialmente si era deciso di scrivere appunto una traduttrice reluttante perché appunto si diceva questo tradurre non era per lei sufficiente la vigna Mazzucchetti diventa diciamo traduttrice un po' per necessità quando nel 1929 viene esclusa dal insegnamento accademico perché era antifascista nel 35 perde anche la cattedra a scuola questo la spinge come molti altri intellettuali dell'epoca a tradurre a rinforzare diciamo i suoi lavori con l'editoria dirige una collana che si chiama Narratori Nordici per la casettrice Schwerling e Kupf che di fatto è la prima collana dedicata alla letteratura nordica e soprattutto tedesca in Italia e questo è un lavoro che le piace la stimola molto perché non è soltanto traduttrice perché è lei a tradurre vari volumi di questa collana ma è anche lei a decidere sostanzialmente che autore pubblicare quali opere per Mondadori inizia diciamo come traduttrice però anche lì è un lavoro che lei lo chiama ProTarbeit quindi un lavoro diciamo per guadagnarsi il pane quotidiano però quello che le piace di più fare è poi essere consulente editoriale quindi scovere gli autori in loco decidere lei quali opere verranno pubblicate poi è come dire passare questi lavori di traduzione a una ricchissima rete di contatti di traduttori revisori studiosi di ogni tipo che lei cerca di coinvolgere nel suo lavoro quindi si può dire che prima che una traduttrice sia un'editrice anche se non è titolare della casa editrice ma fa il lavoro che si fa dall'interno di una casa editrice le commissioni e le traduzioni più che farle quali sono le principali imprese editoriali di cui si è reso protagonista e chi hanno coinvolto e che cosa ne è rimasto allora i suoi necrologi diciamo recitavano traduttrice di Thomas Mann e di Goethe che forse sono le sue imprese maggiore perché è stata con lei che ha curato l'opera omnia di Thomas Mann ha fatto anche delle traduzioni però in sostanza appunto è quella che riesce a fare in modo che Mondadori pubblichi questa opera omnia ed è quella di nuovo che spartisce diciamo il lavoro di traduzione oltre a poi a tradurre singole opere è lei che cura l'opera omnia di Goethe per Sansoni un'opera enorme di sei volumi della quale iniziano a parlare già a metà verso la metà degli anni 30 e che finisce con la sua morte nel 65 quando ancora si discuteva sull'opportunità di aggiungere un altro volume di carteggi e in mezzo c'è di tutto devo dire non so c'è un'opera molto difficile se si parla di traduzione ad esempio c'è Erich Kessner ci sono dei libri per bambini ci sono autori che hanno degli stili molto molto diversi che lei era uscita a mio avviso ma insomma dimostra anche il fatto che sono spesso edizioni ancora pubblicate oggi riusciva a centrare molto bene lo stile di questi autori l'opera più grande sono Thomas Mann degli autori contemporanei che erano sempre suoi amici quindi era lei che proponeva queste opere scelte l'opera omnia di Thomas Mann l'opera scelte di Hermann Hess l'opera scelte di Stefan Zweig ed era lei poi che le portava avanti qui accennavi prima il suo interesse per la letteratura contemporanea che si manifesta appunto nel suo lavoro su Mann su Zweig su Hess però c'è la sua collaborazione con Medusa che forse è la cosa principale e di cui è difficile dare un'idea cioè quanti è possibile dire in qualche modo in quale misura quanti autori Lavinia Mazzocchetti ha letto ha scritto i pareri di lettura per Mondadori quanti ne ha fatti passare in Italia negli anni in cui è stata consulente di Medusa non ti chiedo di fare un nome però di darci un po' un'idea della quantità di lavoro prolungata nel tempo su tutta la letteratura tedesca contemporanea di fatto non c'era quasi libro che non passasse per la lettura di Lavinia Mazzocchetti per un certo per alcuni decenni allora sentirle lamentè i libri erano tantissimi però mi sono sempre chiesto anch'io veramente se li leggesse fino in fondo o se alcuni magari li scartasse fin dall'inizio allora nel periodo di cui si parlava nel periodo della Medusa quindi siamo all'inizio degli anni 30 avevo fatto un calcolo per cui lei sceglieva più o meno tra la Medusa e i libri della Palma i romanzi della Palma sceglieva più o meno dieci libri all'anno quindi io immagino che i libri scartati fossero più o meno almeno tre volte tanto e il problema del quale lei si lamentava e forse giustamente immagino che oggi forse non sia tanto diverso erano tutti i libri che lei doveva leggere che andavano scartati ma dei quali comunque andavano scritti dei perere editoriali quindi davvero bisogna immaginarsi che fra l'altro era un lavoro il quale lei che lei inizialmente faceva nei ritagli di tempo tra le ore di insegnamento scolastico le ore di insegnamento universitario varie conferenze tenute in ogni genere di accademia sempre su pagamento perché come si diceva prima alla fine molto spesso tutto non dico si riduce però insomma l'aspetto economico è fondamentale si trattava fra l'altro di una donna sola che doveva occuparsi di sua madre perché il padre era venuto a mancare e quindi insomma per lei essere pagato in modo secondo lei degno era un aspetto davvero fondamentale e su questo insiste molto nella sua corrispondenza quindi sì almeno dieci libri che poi dovevano essere approvati poi nel corso del tempo il lavoro diventa più semplice perché lei si affeziona chiaramente sceglie a degli autori prediletti che porta avanti nel corso della sua carriera mentre altre forse anche un po' per antipatia personali e qui ci sarebbero molte anche politiche certo soprattutto politiche però anche personali sono poi degli autori che lei scarta e che non porta avanti ecco sempre per questa sua idea che la letteratura era anche una questione di impegno civile quindi doveva dire qualcosa diciamo che avrebbe lasciato la traccia dove rimanere nel tempo ecco sceglie i suoi autori e le loro opere molto molto attentamente con un occhio però sempre al mercato ecco perché no la colana Medusa è una colana diciamo oggi si direbbe di letteratura medio alta diciamo mentre i romanzi della palma che però è la prima collana Mondadoriana che ha anche dei titoli importanti di letteratura tedesca era invece una collana che doveva parlare diciamo dialogare soprattutto con dei lettori ecco che erano abituati appunto a comprare soprattutto riviste a leggere dei prodotti editoriali che si potevano comprare in edicola ecco e anche questa penso che questa questa sua capacità di diversificare quindi di scegliere più o meno il libro d'autora giusto a seconda della collocazione editoriale abbiamo fatto di lei una grande consulente editoriale e soprattutto mediatrice ecco ringraziamo Anna Antonello già si sta delineando un filo rosso che penso riprenderemo anche nel prossimo e che ci è stato suggerito da Alice Gardoncini per la sua esperienza personale ovvero questo intrecciarsi di necessità economica di chi esercita questo lavoro e la idea molto alta che tante volte abbiamo la letteratura come un qualche cosa di assolutamente slegato dalla materialità ecco lo sentiremo poi questa necessità di dover fare un certo lavoro perché lo si vuole fare nello stesso tempo questo lavoro non mette in condizione di essere autonomi economicamente credo che Vincenzo Errante il prossimo autore di cui parleremo possa dirci molto a riguardo grazie mille Anna ci risentiamo per la tavola rotonda chiamo adesso al tavolo Lorenzo Bonosi che presenterà questo volume Errantiana lo vedete qua della quale questo lo lascio a te così della quale sono co-curatrici ma ce ne parlerà lui Lorenzo Bonosi è dottore di ricerca in ecologia forestale e in germanistica e lavora attualmente come traduttore italiano tedesco e tedesco italiano è commissario di bilinguismo Bolzano nonché germanista indipendente negli ultimi anni i suoi interessi lo hanno portato ad occuparsi con particolare intensità della scrittura epistolare e dell'edizione di carteggi inediti ricordo in particolare un'edizione critica dell'epistolario di Stefan Zweig e Hilde Domin in uscita a Vienna per Sonderzahl e l'epistolario Hilde Domin e Richfried che è uscito per sempre a Vienna per Presence in questa miscellanea che raccoglie testimonianze di e su Vincenzo Errante lui ha curato un'ampia parte che riguarda i rapporti di Errante con un altro grande personaggio mediatore a sua volta verso il mondo tedesco della lettatura italiana ovvero Benno Geiger quindi qui diciamo così lanciamo un altro filo che è la direzione opposta a quella che abbiamo frequentato fino adesso è strettissimo il legame con il volume di cui abbiamo appena parlato che lo ha preceduto questo su Navigna Mazzucchetti perché già l'abbiamo sentito Navigna Mazzucchetti Vincenzo Errante di fatto percorrono le stesse strade fisiche a Milano frequentano le stesse stanze le stesse aule studiano in larga parte anche gli stessi autori sentivamo prima Goethe la stessa Lavinia che a un certo punto riprende traduzioni di Goethe fatte da Errante per la sua opera omnia quindi veramente un rapporto non di grande amore ma indubbiamente anche molto stretto prego Lorenzo bene Paola grazie mille allora a me spetta l'onore di presentare questo libro però in realtà tu stessa cara Paola veramente hai molto del merito in questa operazione tu e Mauro Grazioli mi sembra che abbiate veramente fornito un contributo enorme per quantità e per qualità quindi un grazie sentito a voi due e a chi ha reso possibile questo volume corposo e ben riuscito mi sembra allora Errantiana una prima cosa da chiarire è il perché di questo nome e qui vorrei citare un passo dalla prefazione di Paola Errantiana quindi un volume che tratta di una miscellanea di scritti che hanno Errante quale minimo comune denominatore pagine di mano di Errante pagine che riguardano lui e la sua opera la sua vita e il mondo nel quale è vissuto ecco mi sentite o sono troppo un approccio possibile nella nella costruzione di questo libro sì sto un po' più lontano ecco un approccio possibile che in buona parte è stato seguito in questo volume è stato quello di presentare la poliedricità e lo spettro di azione degli interessi di Errante attraverso i personaggi che ha frequentato nella sua vita colleghi amici altri traduttori scrittori e quindi da questo dialogo con Errante che è presentato in buona parte nel libro nel volume ricaviamo un'idea nuova ricaviamo otteniamo parecchie informazioni in parte anche inedite ecco quindi questi personaggi e questi che incontriamo ci danno un quadro nuovo dicevo e in particolare per esempio il primo contributo quello che riguarda Antonia Pozzi ci rende la 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 di di Antonia Pozzi compiuta da Errante stesso ecco questo volevo dire in realtà a parte presentarci la qualità dei versi di 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 Antonia Pozzi è una grossa informazione una informazione importante su Errante stesso no? perché ci fa capire quanto quanto sia prossimo sì sono sempre scusi ecco ci fa capire quanto lui in che misura fosse prossimo alla lingua tedesca e alla sua musicalità al potenziale poetico di questa lingua che lui dominava molto bene e che traduceva in italiano come anche dall'inglese e dal tedesco ecco abbiamo citato prima il contributo di Anna Antonello anche in questo volume che riguarda la collaborazione di Errante con Enzo Ferrieri ecco e qui abbiamo visto quanto fosse attivo Errante nel campo della promozione culturale come diremmo oggi quanto fosse consapevole della necessità già allora di fare cultura e in termini contemporanei quanto fosse consapevole di creare un network ecco per promuovere la letteratura alla sua ricezione e per portare avanti un network ecco con certi scopi anche in campo insomma al di là della letteratura per esempio anche in campo politico nel volume ci sono poi le lettere di Errante a due colleghi traduttori attivi nel campo della letteratura tedesca che hanno un rapporto molto stretto col suo territorio d'adozione ovvero il Trentino e il Lago di Garda Riva Eugenio Zanibone e Pia Laviosa Zambotti lettere presentate da Paola Maria Filippi ecco e qui a mio avviso l'interesse sta è duplice non solo assistiamo a delle osservazioni ecco inerenti la traduzione la letteratura come dire delle osservazioni tecniche ma anche ecco e questo è particolarmente commovente trovo a qualche spunto che ci permette di capire come mai Errante tenesse tanto al Trentino al suo al suo buon ritiro potremmo potremmo dire un pochino e forse arriviamo perfino a cioè arriviamo perfino a ipotizzare a pensare che in che misura o in che modo questo questo contesto questo questo territorio ecco abbia addirittura informato il suo sentire di poeta di traduttore addirittura ecco ecco e e poi ovviamente passando in rassegna brevemente alcuni dei personaggi e dei contributi del volume molto lungo si fa menzione della famosa celebre polemica con gli ermetici con Salvatore Quasimodo anche questo è un contributo di di Paola Maria Filippi polemica che ritorna anche nel contributo del sottoscritto condiviso anche con con Benno Geiger cioè questo astio veramente incredibile per gli ermetici tutti quanti astio misto anche permeato anche un po' da un po' di invidia e mi spengerei quasi a dire ecco e qui vorrei citare invece concludendo questa brevissima rassegna di alcuni contributi la seguente frase pronunciata scritta da Errante stesso a proposito di Cosimodo la traduzione vera è anche opera di critica in atto e il traduttore non basta sia dotato di qualità poetiche occorre sia formidabilmente sorretto da coniezioni filologiche storiche critiche ecco chiudo con qualche parola sul contributo mio perché si allaccia a questa osservazione di Errante veramente molto polemica che è una sorta di manifesto della sua poetica del suo modo di tradurre ecco Benno Geiger anche qui si tratta di lettere scritte da Errante a Geiger io ho cercato nel contributo di ricostruire una sorta di risposta in diretta da parte di Geiger estrapolando insomma dalla sua autobiografia e da alcuni passi insomma in cui Geiger in qualche modo prende posizione e lo ha fatto anche rispetto al suo amico Vincenzo Errante due parole su questo personaggio veramente multiforme Benno Geiger coetaneo di Stefan Zweig che dice come dice lui stesso nella sua autobiografia ecco con poca ironia il merito più grande forse della mia vita è stato di essere amico dei grandissimi personaggi del mio tempo quindi insomma un po' di understatement qua fa Giovanni Pascoli di Pisis insomma una ridda di personaggi con cui lui ha discusso e che ha frequentato ecco e poi bisogna tenere presente e questo vale è importante anche per capire un po' come dire ex negativo la figura di Errante e la sua ammirazione per questo Benno Geiger che Geiger è stato via via un po' di tutto ecco veramente si è auto è stato definito da una nota di un informatore al ministero italiano al ministero dell'interno del 38 come campione dell'internazionale massonico ebraica socialista o comunista ecco mi fa sorrire perché lui stesso invece in una lettera fatta firmare da sua figlia scritta a Eddaciano lui invece si dichiarava molto prossimo al nazionalsocialismo insomma quindi fa sorridere amaramente insomma quanto distorte fossero le informazioni e quanto camaleontico fosse stato questo personaggio ecco concludendo ecco la discussione in diretta che ho cercato di rimettere in piedi è molto serrata e parla molto 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 di traduzione grande amico Benno Geiger che però non ecco non risparmia delle critiche abbastanza severe a Errante quella più famosa per esempio che riporta nelle memorie di un veneziano quindi dopo la morte di Errante ecco bisogna dire questa cosa è che Errante non 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 sia stato capace di rendere traducendo Rilke il Knittelwerst di Rilke e che dice Geiger avrebbe dovuto trovare un corrispettivo italiano usando magari un dialetto ecco quindi insomma impresa ardua critica abbastanza pesante insomma a mio modo di vedere e poi un'altra cosa che mi colpisce personalmente ecco un'altra critica di Geiger ad Errante è stata il tuo linguaggio ora in soldoni la critica era questa è troppo aulico critica condivisibile ma mi viene da sorridere anche qui perché lo stesso Geiger quando ha tradotto Dante Petrarca in tedesco è stato estremamente aulico quindi ecco lo spunto che uno potrebbe trarre da questa discussione è proprio quello ecco sullo che hanno questi traduttori scrittori di se stessi criticano i colleghi presunti o veri amici però poi a volte difettano di uno sguardo obiettivo un po' su se stessi ecco verrebbe da pensare ecco quindi insomma Geiger traduttore sicuramente affermato e probabilmente anche bravo però sicuramente con un linguaggio aulico un linguaggio fuori dal tempo già all'epoca quindi concludo con questa osservazione la discussione interessantissima che Rante svolge nelle lettere a Geiger e di cui abbiamo diciamo a disposizione qualche risposta traslata nel tempo ecco ci chiede cioè ci ripropone l'eterna domanda cioè quanto sia importante cioè quanto rapidamente o quanto invecchino le traduzioni una questione che in qualche modo irrisolvibile che si applica veramente a entrambi loro a mio modo di vedere e poi l'altro spunto secondo me importante è appunto e qui mi ricollego all'osservazione di Errante che vi ho letto prima per essere un bravo traduttore soprattutto nel campo della traduzione lirica basta essere un poeta vates o invece come Errante serve essere un poeta faber che col lavorio tecnico e con la riflessione con la filologia arriva a mettere insieme una serie di strategie ecco Errante è stato più faber Geiger è stato più vates però ecco bisogna vedere in che misura questi due approcci siano poi riusciti o meno ecco e con questo avrei concluso grazie Lorenzo vorrei dare brevemente la parola anche all'altra coautrice e iniziatrice di questo volume che vedo adesso ed è ricchissimo ma ne ho sentito parlare per anni e sono veramente felice che sia uscito e peraltro più o meno contemporanea con quello sull'Avina Mazzucchetti quindi adesso abbiamo due questa non è una vera e propria biografia però è una documentazione amplissima su Vincenzo Errante più o meno hanno la stessa età Errante e Mazzucchetti quindi due traduttori editori pilastri del primo novecento vengono indagati per la prima volta in Mose d'Oriente grazie al lavoro Diana e di Paola e dalle nostre conversazioni su Errante negli ultimi mesi è emersa una specificità del suo modo di tradurre che per me era del tutto nuova e che le chiederei di approfondire ovvero la performatività delle sue traduzioni cioè Errante traduceva questa l'ipotesi la tesi di Paola Maria Filippi perché le sue traduzioni fossero lette ad alta voce quindi gran parte del carattere di queste traduzioni non è dovuto non è legato a una lettura come dire solitaria come siamo abituati a fare ma a una lettura performata di fronte a un pubblico come è emerso questo aspetto e ci puoi dire qualcosa di più grazie per la domanda che fra il resto mi riegancia a quanto prima quando Alice Gardoncini io adesso leggerò un brano della mia traduzione però non sono un'attrice altrimenti si tratta di teatro eccetera e mi è venuto in mente che ci fosse stato Errante l'avrebbe immediatamente bloccata ed avrebbe detto al contrario al contrario la traduzione regge nella misura in cui regge alla lettura ad alta voce quindi non una lettura a libero diciamo così non una lettura silenziosa non è una lettura fatta nella testa ma è una lettura che deve reggere allo strumento fonico della voce abbiamo moltissime testimonianze di questo una molto bella in una lettera di un suo amico che gli manda le proprie traduzioni dal latino lui le legge gli scrive mi piacciono molto eccetera però le devo sottoporre alla prova del fuoco ovvero me le devo leggere ad alta voce io le ricevo le rileggerò tutte me le leggerò tutte ad alta voce quindi ti dirò diciamo così ti darò un giudizio più fondato ancora nel momento in cui le avrò lette poi lui leggeva moltissimo aveva moltissime serate in cui proponeva i suoi testi gli sceglieva con grande cura li provava a casa li annotava con dei segni a matita rossa e blu per le pause per le sospensioni per le respirazioni c'è da dire che lui nasce come attore lui è stato un grande attore da giovane studente nel teatro di Ettore Romagnoli e ha risentito moltissimo della teoria traduttiva e della pratica traduttiva di Romagnoli Romagnoli anche è stato il grande innovatore mi spiace che Patrizia Salomoni è grande studiosa non ci sia e ci avrebbe potuto aggiungere qualcosa Ettore Romagnoli traduce perché il teatro greco diventi un teatro veramente attuale un teatro vivo un teatro che viene messo in scena prima dai suoi studenti e poi pubblicando le traduzioni anche diciamo così dal mondo teatrale italiano nel suo complesso negli spettacoli nel teatro in Sicilia quindi Errante vive questa dimensione della parola detta la parola funziona e quindi la traduzione funziona nella misura in cui è incisiva se pronunciata cosa significa? Significa che tante figure retoriche che lui utilizza sono pensate per questo significa che certe soluzioni lui le adotta perché funzionano meglio alla lettura lui traduce in maniera molto diversa quando traduce ad esempio per gli studenti quando deve presentare una traduzione scolastica questo abbiamo i manoscritti conservati anche a Riva del Garda quando lui prepara i testi per le lezioni le traduzioni sono molto diverse sono altri testi rispetto a quelli che poi pubblicherà in pubblicazione arriva con tutto un lavorio perché per lui la traduzione è l'ultimo gradino del lavoro del critico e dello studioso prima viene la filologia poi viene lo studio del contesto storico poi lo studio della critica eccetera l'ultimo passo è la traduzione esattamente il contrario se vogliamo di quello che si fa adesso un po' anche all'università gli studi come si sono sviluppati dopo la traduzione raccoglie tutto quello che uno ha tratto da un testo e da un autore e lo condensa nel nuovo testo lui non è per nulla fra il resto come dire non è che quello che lui produce offre ha un valore immodificabile al contrario lui accetta in continuazione suggerimenti e modifiche una cosa che mi ha stupito moltissimo e questo c'è nelle testimonianze epistolari che lui continua a dire a tutti per favore dimmi cioè persone delle quali naturalmente si fida che sono in contatto con lui per favore dimmi dove devo modificare suggeriscimi delle variazioni una volta due volte tre volte testi già pubblicati lui non ripubblica mai le varie edizioni sono un susseguirsi di modifiche quindi questi testi sono dei testi anche in fieri diciamo così sono sempre un work in progress una revisione permanente e anche questo molto dice del suo modo di lavorare sempre legato al dire una cosa importante tutto sommato poco studiata la prima traduzione del Faust Goethe in Italia va in scena con la sua traduzione gli attori sono entusiasti ci sono le testimonianze del suo dettato della sua lingua e dicono non abbiamo fatto nessuna fatica la compagnia è quella di Fantasio Piccoli a Bolzano non abbiamo fatto nessunissima fatica ad imparare il testo ci viene proprio facilissimamente e spettatori tedeschi buoni conoscitori della lingua italiana che hanno assistito sono venuti anche dall'estero così dicono le cronache ad ascoltare ad assistire a questo spettacolo riconoscono che la musicalità della lingua trovata da Errante per il Faust Goethe è veramente eccellente ecco questo è un discorso proprio lui stesso poi appunto racconta con commozione che ha riempito di oltre 800 persone ridotto della scala di Milano per ascoltare una lettura del Faust il che oggi come oggi mi lascerebbe cioè se un semplice lettore sì d'accordo ci sono gli attori che recitano Dante ecco ma dobbiamo mettere un pochino a questa a questo livello per la traduzione del Faust direi che è una performance grazie Lorenzo chiamerei ora il professor Ralf Georg Zapla che è professore all'università di Heidelberg e che presenterà una sua monografia su uno studioso che ha un filo anche questo di collegamento conerrante perché si tratta di Leifelm Hans Leifelm traduttore da giovane in Italia di tedesco uno dei quattordici traduttori attenzionati permettetemi questa brutta parola da parte del governo nazionalsocialista in Italia e di questa schiera faceva parte anche il lettore a Milano di Errante che ha lasciato belle testimonianze su Errante stesso lettore quello di Errante che è stato allontanato e poi dovuto emigrare in America con grande dispiacere ecco quindi un'altra figura che si affianca un tedesco che viene in Italia per insegnare il tedesco e che si fa poi mediatore nel mondo tedesco della letteratura italiana ancora due parole soltanto sul professor Zappla del quale veramente posso solo rimandare ai siti che ci sono che studia una bibliografia sconfinata che va da Griffius a Ricotta Heise e che dedica particolare attenzione ai fenomeni di transfer dei rapporti fra il mondo tedesco e il mondo italiano vorrei ricordare che prima di ascoltare il suo intervento che grazie ai suoi studi grazie alle sue ricerche e grazie anche a quelle di Maria Luisa Crosina qui presente in sala se Hans Leifelm questo personaggio ha di nuovo una lapide tombale a riva del Garda anche questo è un personaggio legato al lago di Garda che è stata riscoperta e che è stata inaugurata pochissimo tempo fa a riva presenti i discendenti venuti apposta dall'Austria ecco prego il professor Zapla di dirci qualcosa io mi accomodo di là perché c'è il powerpoint grazie mille Paola Filippi con la pubblicazione di questa edizione del testo si è conclusa la prima fase di un ampio progetto scientifico con il quale vorrei ricordare il poeta scrittore e traduttore Hans Leifelm tutti i tre paesi sono stati la sua casa almeno per un certo periodo cresciuto a Manchingladbach una città industriale del basso Reno ha lavorato come consulente di carriera a Graz ha insegnato lingua e letteratura tedesca all'università di Palermo e Padua e infine è morto come scrittore freelance a Riva del Garda le fasi successive del mio progetto sono una biografia accademica e un'edizione di quella che è probabilmente la sua tradizione più importante ma di questo si parlerà più avanti la mia edizione del testo è stata pubblicata il primo di marzo 2022 nel 75esimo anniversario della morte del poeta e la prima edizione della meta degli anni 50 e inoltre la prima in assoluto a presentare Leifelm nelle varie sfaccettature della sua opera letteraria come poeta come narratore come saggista come scrittore specialista e non ultimo come traduttore dall'italiano le traduzioni di Leifelm di cui ho potuto includere solo una selezione per mancanza di spazio vengono contestualizzate per la prima volta con l'aiuto di un commento dettagliato mostro quanto la passione di Leifelm per la letteratura italiana abbia influenzato la sua scrittura e quanto Leifelm stesso abbia inteso la traduzione come un processo di mediazione tra nord e sud l'attività di Leifelm come traduttore copre se vogliamo l'intero periodo della storia letteraria italiana dal tredicesimo all'inizio del ventesimo secolo mentre la traduzione di testi volgari e latini di Francesco d'Assisi servivano ancora come ossilio di lavoro per la stessura di una biografia del santo la traduzione della letteratura italiana moderna aveva già uno scopo politico culturale si trattava di creare un ponte tra l'Italia e la Germania un ponte basato sul comune patrimonio europeo non su fantasie di omnipotenza fascista nel maggio 1939 un numero speciale della rivista das Innere Reich presentò la poesia italiana contemporanea nelle traduzioni di Leifelm i nomi dei poeti presenti in questo numero appartengono a importanti esponenti del modernismo Eugenio Montale Giuseppe Ungaretti Antonio Baldini Giovanni Papini e Ugo Betti Buonaventura Tecchi ha poi allargato questa cerchia Leifelm non presenta riscritture tedesche o addirittura nuove reazioni per le quali il testo italiano sarebbe stato solo un'occasione cerca di trasmettere la letteratura italiana come letteratura italiana non come letteratura tedesca dove è possibile imitare anche l'ordine delle parole e le strutture sintattiche dell'originale italiano cerca di trovare un equilibrio tra una tradizione ad verbum ed una tradizione ad sensum una tradizione doveva essere il più possibile letterale ma anche il più necessario libera come già sapeva dalla lezione di lingue antiche impartite al liceo umanistico la fedeltà al testo originale si dimostra anche nell'adozione della forma che Leifern varia al massimo di poco ciò che si conosceva delle traduzioni di Hans Leifern fino alla pubblicazione della mia edizione forniva solo un quadro incompleto della sua attività traduttiva poiché sembra che non abbia prestato particolare attenzione alla letteratura del diciannovesimo secolo tuttavia questa impressione è ingannevole durante l'indagine del patrimonio di Leifern mi sono imbattuto nella traduzione finora sconosciuta dell'ode alle fonti del clitono di Giosoi Caducci che ho inserito nella mia edizione con note sulla genesi e la storia del testo i manoscritti sopravvissuti mostrano che Leifern ha cercato di riprodurre questa poesia il più fedelmente possibile al testo oltre alle proprie close sono presenti anche quelle dell'amico scrittore viennese Felix Braun al quale aveva chiesto di rivedere e correggere il testo il fatto che egli abbia comunque proibito la pubblicazione della tradizione anche dopo la sua morte aveva ragioni personali temeva che le suore dell'ospedale civile di Riva dove era ricoverato dall'estate del 1942 per la cura di un parkinsonismo postencefalitico potessero offendersi per il contenuto apparentemente blasfemo una sensazione ben più grande della scoperta della traduzione dell'ode di Carducci è quella di grande romanzo di Alessandro Manzoni i promessi sposi in uno dei lasciti non catalogati del poeta Lifem l'aveva completato nel 1927 dopo anni di accurato lavoro ma non aveva trovato un editore perché troppe traduzioni di questo romanzo erano già sul mercato dalla fine degli anni 40 essa era considerata perduta la traduzione di Lifem è disponibile in due versioni di 600 pagine ciascuna una versione di lavoro e una copia fedele vorrei pubblicarlo per la prima volta in forma di libro nell'ambito della seconda fase del mio progetto per l'edizione del testo invece ho dovuto limitarmi a ristampare i paretesti alla traduzione dei promessi sposi cioè la prefazione di Lifem in esso Lifem citta non solo l'opera di Goethe su Manzoni ma anche il racconto di Ed mondo dei amichis una visita ad Alessandro Manzoni di cui ha tradotto alcuni brani riferimenti e connessioni che spesso ho potuto solo accennare nel mio commento voglio trattarli in dettaglio nel contesto di una biografia accademica la prevenzione di Lifem per la letteratura e la cultura italiana avrà un ruolo centrale dopo la sua prima escursione da Vienna attraverso gli appennini fino a Roma nell'estate del 1913 Lifem aveva visitato il paese più volte prima da stabilirvi definitivamente nel 1935 dopo uno scontro con le autorità naziste dal 1935 al 1937 insegnò lingua e letteratura tedesca all'università di Palermo e dal 1939 al 1942 all'università di Padua nel frattempo visse a Roma dove venne curato presso l'ospedale Regina Elena per una grave malattia neurologica nel giugno del 1942 si ricò a Marcesine per far visite ad amici che lo portarono all'ospedale civile di Riva del Garda perché la sua salute stava peggiorando sostenuto da Giuseppina Mazzi un insegnante della scuola commerciale locale Lifhelm preparò la pubblicazione del suo ultimo volume di poesie Arriva le nuove poesie venivano scritte solo sporadicamente si dedicò con maggiore intensità alla traduzione dall'italiano non appena ne trovò la forza scrive all'amica Sophie Hoffman nell'aprile del 1943 il mio lavoro procede solo lentamente sto sfruttando il tempo tranquillo per tradurre alcune poesie italiane se il lavoro risulterà soddisfacente forse diventerà un piccolo libro uno dei visitatori abituali dell'ospedale era lo scrittore e germanista Bonaventura Tecchi che insegnava a Roma e che Leifem fece conoscere in Germania con le sue traduzioni Tecchi ricambiò il favore con commissioni di traduzione per esempio Leifem doveva tradurre in tedesco il grande romanzo di Riccardo Bacchelli il mulino del po dietro compenso ma la sua malattia era già troppo avanzata perché potesse affrontare un tale carico di lavoro Stefan Andres un altro grande traduttore di letteratura italiana ne prese il posto tuttavia una delle poesie più importanti di Hans Leifem fu scritta a Riva sintitola prima uscita dopo lunga malattia Leifem la scrisse nell'autunno del 1943 poche settimane dopo la caduta di Mussolini la speranza di guarigione espressa in questi versi non riguarda solo la sua malattia ma anche i rapporti tra Germania e Italia il lago di Garda che Dante descriveva come il confine tra i due paesi diventa nel poema di Leifem un luogo dove sud e nord fraternamente si incontrano la culla di una nuova Europa subito dopo aver completato il suo poema Leifem lo inviò a Diego Valeri con il quale aveva stretto amichizia fin dai tempi in cui erano stati insieme a Padua Valeri tradusse il testo in italiano la sua traduzione appare sul mensile le tre venezie già nel novembre del 1943 come Leifem seguì il suo originale il più fedelmente possibile vi operò solo un piccolo cambiamento appena percettibile ma tanto più importante inverti l'ordine del sud e del nord rendendo così omaggio all'amico di cui favorì l'accoglienza in Italia con questa poesia la mia biografia che sto elaborando parallelamente all'edizione del suo opera si concentrerà più sulle reti che coltivò che sulla vita esteriore di Hans Leifem oltre ai poeti già citati queste reti comprendono scrittori di segno opposto come Gabriele D'Annunzio e Ignazio Silone per quanto riguarda l'Italia queste reti sono ancora in gran parte oscure Leifem intendeva tradurre in tedesco una selezione di poesie di D'Annunzio a sua volta Silone che in qualità di presidente del pen italiano si era adoperato per tutelare il patrimonio letterario di Leifem pensò a qualcosa di analogo per Leifem con questa biografia spero di poter scrivere un nuovo capitolo nelle relazioni letterarie italo-tedesche grazie mille ringraziamo il professor Zampla perché credo che ci abbia veramente aperto delle porte sconosciute introducendoci in un personaggio che ci chiediamo come mai non ne avevamo sentito parlare visto tutto quello che ha realizzato e visto il calibro degli autori e il numero degli autori italiani che ha mediato in Germania e visto i rapporti che oltretutto anche qui in Italia è riuscito a intessere sia a Palermo che a Padova Michele se vuoi chiedere qualche cosa al professore una domanda sempre sul tema che ha messo finora che quello delle biografie ma una domanda un'ottori chiedere delle biografie di l'artori è anche la l'artori non è l'artori ma è c'è la l'artori 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 Grazie a tutti. 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 Europa a Torino di cui è ancora direttrice didattica e della quale altro filo che si riannoda Claudio Groff è stato fedele collaboratore per anni. Nel duemiladodici ha fondato la rivista online Tradurre con Gianfranco Petrillo dalla quale sono tratte le interviste del volume che oggi viene presentato e che ci offre uno spaccato imperdibile sul mondo traduttivo ed editoriale italiano degli ultimi decenni. Il volume fa seguito ad un'altra raccolta sempre di interviste della rivista del duemila e sedici curata questa da Gianfranco Petrillo nella quale era presente una fra le più belle e significative interviste a Groff curata dall'altra nostra giurata ovvero ad Avigliani. Come vedete è un mondo che si va ricostituendo e grazie soprattutto anche a queste testimonianze scritte che vengono raccolte tramandate perché purtroppo l'online è una cosa bellissima ma come in questo caso fra il resto è stato chiuso e quindi ancora in rete è reperibile ma non sappiamo ancora per quanto rimarrà. Chiedo a Paola che si sta sentendo. Sì? Sì. Buonasera. Vi faccio anche in questo caso qualche domanda per stimolare il dialogo con Paola Mazzarelli. Grazie moltissimo di essere qui con noi anche se da remoto. Questo volume raccoglie 19 interviste a diversi traduttori e molto sfaccettato nella prefazione Paola Mazzarelli un po' quali sono le caratteristiche che unificano che diciamo il minimo denominatore tra queste interviste e quello che le vorrei chiedere in primo luogo è come è nato questo libro il che implicitamente è anche una domanda sulla rivista tradurre di dirci qualcosa anche sull'esperienza più che decennale di questa rivista. A te Paola. Sì grazie. Buonasera a tutti. Mi vedete? Perché io vedo un po' male. Ma intanto sì questo volume è nato con l'idea di offrire ai lettori della rivista un dono di addio nel momento in cui per noi è stato impossibile continuare a fare la rivista. Tradurre la rivista era nata nel 2010 se ben ricordo era una rivista online si faceva in modo molto artigianale ma avevamo un magnifico gruppo una magnifica redazione e un magnifico gruppo di collaboratori esterni è andata avanti con una pubblicazione semestrale di due 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 numeri all'anno numeri molto consistenti ci piaceva pensare che fosse una rivista cartacea messa online perché i tempi sono questi ed effettivamente è un po' sempre stato così il lavoro era molto grosso lo abbiamo voluto fare e dedicare ai lettori di traduzioni quindi messo online perché tutti potessero perché tutti potessero leggere e fruire di quel del nostro lavoro che è stato un lavoro grosso ma entusiasmante però a un certo punto si invecchia mancano le forze non necessariamente i giovani riescono o vogliono o hanno il tempo spesso di prendere le nostre raccogliere il testimone e quindi la rivista l'anno scorso se mi pare l'anno scorso ha chiuso e ancora disponibili online non sappiamo per quanto perché le cose sul web non sono eterne anche se ci piace pensarlo allora in questa in quest'ottica abbiamo pensato di raccogliere avevamo era già stato raccolto come è stato accennato un con un volume le cose più interessanti che erano uscite sulla rivista nei primi quattro anni di lavori in questo volume abbiamo pensato di raccogliere uno dei dei degli arti il tipo di articoli più uno tra i più interessanti che erano quelli delle ogni numero delle interviste a traduttori avevamo su ogni numero un'intervista a volte anche due interviste chiacchierate più che interviste molto articolate e qua in questo volume che di cui stiamo parlando che è uscito nel 2022 ne abbiamo abbiamo raccolto tutte quelle presenti dal dall'inizio tranne appunto quella claudio groff a maurizia balmeli a claudia zonghetti che erano state ripubblicate nell'altro nel volume precedente mi chiedi michele che cosa le accomuna che cosa accomuna tutte questi traduttori ma in un certo senso anche un po il dato anagrafico si tratta di traduttori che lavorano da tempo nel mondo dell'editoria che hanno qualche cosa da dire hanno tutti un curriculum interessante variegato e importante curriculum alle spalle sicuramente quello che le accomuna e qua forse ci possiamo collegare in qualche misura a qualcosa che è stato detto all'inizio di questa giornata questi traduttori non hanno frequentato tranne nel caso di chissiana mennella non hanno frequentato scuole di traduzione ma sono tutti traduttori che hanno qualche cosa da dire nel mondo della traduzione contemporanea e fanno parte di quella notevolissima scuola e lo della traduzione italiana che può a mio parere veramente fare scuola nel mondo contemporaneo non hanno frequentato scuole ma hanno tutti un background simili simile che emerge molto bene dalle letture sono persone che fanno della lettura una delle loro attività principali e perché dico che possiamo collegarci a quello che dicevate prima sul fatto che i giovani avete avuto poche presenze poche domande per il premio e in tutto sommato un po dell'utenti forse questo è uno degli aspetti che oggi manca di più ai giovani traduttori e quello di una solida molto solida formazione letteraria e umanistica e qua il discorso sarebbe molto ampio non abbiamo più una scuola che fornisca sufficientemente un quadro di riferimento a cui i giovani possano fare possano poi nel quale poi i giovani possano inserire tutto ciò che acquisiscono dal dalla dalle loro letture è un discorso molto complesso ma insomma se poi vogliamo possiamo parlarne più avanti la secondo aspetto che secondo me è fondamentale in queste da cui che emerge in queste interviste è la convinzione dei traduttori che il loro lavoro vada considerato alla stregua di una di un'opera creativa letteraria e tu dicevi a un certo punto che la anche le traduzioni devono entrare in un nella letteratura italiana e se non c'è dubbio che sia così i traduttori questo lo sentono traduttori e le traduttrici di cui si parla in questo che parlano in questo volume lo sentono fortissimamente sono tutti traduttori e traduttrici che accentuano sempre parlando di traduzione il ruolo autoriale del traduttore naturalmente non quello di coautore come dice ad avigliani nella sua intervista il traduttore non è un coautore del testo ma è un autore della traduzione e il fatto che la traduzione sia fondamentale nella nostra nel nostro mondo e che abbia costituito per tutti noi un elemento fondante della nostro panorama letterario è dato dal fatto che tutti noi abbiamo letto in traduzione e che l'italiano che parliamo l'abbiamo appreso in grandissima parte dalle opere straniere tradotte in italiano questo ci dice quanto la traduzione oggi sia oggi no quando quanto la traduzione sia sempre stata fondamentale per per la nostra cultura di ognuno di noi ogni di ognuno di noi singoli lettori e poi anche operatori del mondo del mondo culturale quindi questi sono un po gli aspetti che emergono da tutte queste interviste che naturalmente poi e poi naturalmente io dico qua le cose che le accomunano ci sono poi in realtà ognuno ha la sua personalità e quindi leggerle è interessante perché ci sono innumerevoli sfumature e innumerevoli osservazioni interessanti sul lavoro del traduttore però c'è un un denominatore comune che mi sembra si possa identificare in questi elementi che ho adesso ho esposto volevo stimolarti proprio su questo secondo aspetto cioè la diversità quello che emerge da questo libro è una fenomenologia del dei traduttori che condividono tra l'altro un'insofferenza nei confronti di delle norme delle scuole delle norme di chi dice bisogna tradurre così ogni traduttore rivendica una libertà del tradurre una responsabilità una consapevolezza del tradurre che non si rifà nessuna regola che si può insegnare ma che risiede appunto nell'esperienza persone della lettura e nella pratica personale della traduzione il che non esclude mi sembra una l'importanza delle scuole di traduzione ma tende a mettere a margine l'idea che imparando delle regole o delle teorie si possa tradurre bene si vuoi dire qualcosa su no scusa ti ho interrotto sì anche questo è un aspetto appunto che mi sembra condiviso fra i vari traduttori che avete intervistato e però ciascuno lo declina a modo suo ed è molto interessante questo sì beh c'è un aspetto comune anzi direi che sono due gli aspetti comuni in questo ambito uno è l'insofferenza nei confronti della chiamiamola traduttologia cioè della teo di tutto quel mondo della teoria della traduzione che è interessante e che i traduttori la cosa interessante questi traduttori lo frequentano e leggono ma non vogliono esserne condizionati e tutti i traduttori qua e le traduttori qua presenti ci dicono che il lo studio del della teoria per quanto riguarda la traduzione viene a posteriori rispetto alla all'atto del tradurre anche se poi può essere può essere formativo può essere formativo soprattutto può essere interessante perché dice al traduttore che cosa che cosa sta facendo cioè teorizzare serve e ci dicono questi traduttori però il punto non è quello per quanto invece riguarda la indifferenza sostanziale diciamo indifferenza o anche il fastidio nei confronti delle norme cioè proprio anche delle scuole beh qua c'è un dato anagrafico quando questi traduttori hanno cominciato a lavorare le scuole non esistevano però a me fa ridere perché in fondo io ho lavorato per tanti anni della mia vita proprio a in una scuola di traduzione e però condivido pienamente in fondo e il l'idea che è sottesa a tutte queste interviste cioè che non è la scuola che possa insegnare a tradurre ma la scuola eventualmente una scuola specifica può eventualmente aiutare un giovane a trovare il proprio modo di tradurre ma non è lì non è lì che si può che si può trovare quello che cerca o che quello che fa un traduttore ho risposto hai risposto sì vi faccio ancora una domanda partire da un'intervista quella che fai tu stessa a yasmina melua e a un certo punto le chiedi del rapporto con le case editrici e con i revisori e lei ti risponde è sotto gli occhi di tutti che ci sono meno risorse peraltro quello che diceva lì c'è poco fa certo e lo vedi perché manca una volta figure interne dalle case editrici che facciano revisioni rigorose e di questo ci siamo accorte le mie colleghe del premio babel e io leggendo le traduzioni che ci arrivavano spesso ci dove andavamo ma qualcuno queste castronerie e castronerie le ha rilette ma dove stavano i revisori per giunta a volte è la sensazione che la revisione sia considerata una palestra per stagisti per cui mi è capitato di dover rivedere mie traduzioni rilette da redattori giovanissimi molto intimiditi di fronte a qualsiasi scarto a qualsiasi forzatura della lingua anche quando è voluta dal testo molto conformisti sul piano della lingua e provvisti di quella paradossale baldanza un po' presuntuosa che forse avevo anche agli inizi redattori che correggono che correggono siriaco in siriano senza prendersi la briga di verificare di cosa si sta parlando potrei andare avanti ma chiudo qui la citazione ti chiedo da queste interviste quale quale rapporto emerge con l'editoria perché è la grande presenza di cui si torna necessariamente a parlare quando si parla di traduzione perché l'editoria è il committente l'editoria quella che poi è l'ultima parola perché pubblica il libro fa o non fa la revisione fa i refusi eccetera eccetera il traduttore è un po' in balia dell'editoria e allo stesso tempo senza editoria non potrebbe fare il suo mestiere qual è come 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 si come emerge questo rapporto attraverso l'esperienza di questi 19 traduttori ma qua direi che è abbastanza variegato nel senso che c'è il spesso adesso non mi ricordo esattamente ma insomma in un buon numero di interviste si parla della di questo che è uno dei problemi grossi dell'editoria contemporanea la mancanza del revisore o meglio ancora la mancanza di un revisore competente che non è la stessa cioè una revisione di un revisore incompetente o comunque che non abbia una diciamo anche una orizzonte culturale simile a quello del traduttore non è in grado molto spesso di capire il lavoro che il traduttore fa su un determinato testo non parliamo poi di quando il traduttore non conosce neanche la lingua da cui il testo viene tradotto questo sono si tratta in queste interviste secondo me emergono anche esperienze diverse però perché trattandosi di traduttori e traduttrici di alto livello che lavorano molto spesso la queste persone traducono autori e che vengono considerati dalle case editrici diciamo pregevoli mettere lo mettiamo fra virgolette e vengono seguiti dai pochi revisori interni o esterni particolarmente capaci poi sappiamo tutti che ci sono case editrici che seguono le traduzioni e che hanno delle dei revisori migliori comunque fanno l'evisione ma questo è diciamo che qua abbiamo un una presenza abbastanza privilegiata non è così naturalmente come avete potuto ben constatare nel nel premio Claudio Groff e come Yasmina accenna parlando del premio Babel e credo che sia così per tutti i premi lettera per tutti i premi di traduzione per giovani o pseudo giovani traduttori non è così per i giovani i giovani vengono molto spesso gettati letteralmente allo sbaraglio letteralmente allo sbaraglio e soprattutto non hanno e questo io lo posso dire anche da docente perché vedo i miei giovani allieri che arrivano a tradurre da editori anche di qualità ma poi vengono completamente abbandonati a se stessi proprio completamente al punto che alcune alcune traduzioni escono assolutamente senza nessuna revisione naturalmente la traduzione di un giovane ha bisogno no la una traduzione ha sempre bisogno di un revisore e di un giovane secondo me ancora di più perché appunto ha delle incertezze a delle delle ingenuità che un traduzione un revisore potrebbe ci vorrebbe poco anche però non viene fatto questo lo sappiamo ma il motivo essenzialmente il motivo economico ma non è solo il motivo economico c'è anche la questione che eh difettano oggi i revisori competenti perché le vecchie generazioni stanno uscendo dalla porta da una porta e dall'altra però eh non ne è non è non ne entrano altrettanti non intendo soltanto come eh funzionari all'interno delle case editrici sappiamo che eh le redazioni sono ridotte all'osso e non riescono a lavorare eh non riescono a fare tutto ma proprio dal punto di vista della eh formazione generale culturale eh questo è un po' il problema forse oggi eh sono pochi eh sparsi qua e là eh i giovani che abbiano una formazione culturale sufficientemente ampia e sufficientemente articolata eh da poter effettivamente eh lavorare in ambiti come la traduzione o la revisione o anche la scelta dei anche l'editoria eh molto spesso eh io lo dico penso di essere di avere di aver avuto in questi anni un ottimo osservatorio perché eh comunque come tu sai la mia scuola eh faceva dei corsi per un numero molto limitato di persone che venivano scelte con grandissima attenzione però il vero problema è sempre è sempre stato da un certo punto in avanti avere avere dei giovani sotto mano che avessero un bagaglio culturale umanistico sufficiente ma tanto per dire che conoscessero la storia la filosofia la storia della cultura europea che avessero letto la letteratura e e naturalmente se questo non avviene eh poi eh i buchi si vedono e si vedono anche nelle nei revisori perché appunto poi i revisori non 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 ce la fanno. Ci hai parlato adesso molto lucidamente dei giovani ci fai un invece un ricordo di un traduttore insomma che è il nostro Claudio Groff e del suo rapporto. Claudio è stato eh e qua forse posso ancora dire un'altra cosa che mi sarà interessante eh i germanisti eh noi non siamo più riusciti eh da credo eh sei o forse sette o addirittura forse no forse sette sette otto anni a questa parte ad aprire un corso di eh traduzione della nella scuola di traduzione di eh per germanisti eh non siamo più riusciti perché eh non avevamo eh gli allievi non non c'erano sufficienti non c'era un numero di iscritti sufficiente eh perché il tedesco è una lingua difficile e eh considerata difficile oggi i si studia poco eh non non si studia a sufficienza ci sono pochi giovani che la studiano e naturalmente sono pochissimi di quelli che poi dal tedesco vogliono tradurre. Claudio è stato eh negli anni in cui abbiamo avuto il corso di germanistica uno eh dei nostri principali docenti e una persona straordinaria eh molto sempre molto semplice molto eh lineare molto diretto molto eh poco eh sempre con un certo understatement direi eh è sempre molto amato dagli studenti eh perché riusciva con un equilibrio a ehm aiutarli a crescere e contemporaneamente anche a eh lasciarli a lasciarli eh abbastanza liberi. Io non so se lui veniva volentieri eh poi era divertente perché mh alla fine dell'anno doveva dare i voti e non riusciva mai a collegare i nomi alle facce. Se li ricordava le facce sapeva i nomi ma non li metteva insieme. E allora per lui avevamo stabilito che è una cosa che in teoria non si può fare insomma che la se si può fare anche la segretaria gli eh mandava le foto dei ragazzi abbinate ai nomi prima della nel momento in cui doveva scrivere doveva fare questi famosi giudizi perché lui altrimenti telefonava in continuazione dicendo ma questa è quella con i capelli lunghi, con i capelli corti. Grazie. Chiudo con un'ultima domanda. Abbiamo detto che la rivista Tradurre si è chiusa lo scorso anno però qui sul sul frontespizio del volume del Tecurato leggo quando è indicata la collana quaderni di tradurre numero uno. Eh che cosa avete in programma eh Gianfranco, Petrillo e tu eh cosa state lavorando? Sì eh Gianfranco più che io eh abbiamo in in l'idea di eh fare dei quaderni di tradurre eh di metterne in produzioni diversi. Questo l'abbiamo fatto eh come regalo eh della redazione ai nostri lettori quindi non è disponibile sul mercato eh è stato eh regalato a chi ne abbiamo abbiamo una tiratura limitata, l'abbiamo fatto in proprio ed è stato regalato a chi ce n'ha fatto richiesta. Eh noi stiamo cercando da un lato eh stiamo cercando il modo di conservare eh la rivista in quanto tale cioè di trovare un luogo fisico dove eh depositare tutta quella ricchezza che c'è dentro tradurre contributi eh di tanti studiosi che hanno partecipato con entusiasmo e sempre eh ci hanno sempre tutti detto sì l'articolo mi piace l'idea lo scrivo eh vorremmo riuscire a farlo non so se ci riusciremo non lo sappiamo se ci riusciremo a mettere eh la rivista eh e i numeri così come sono adesso sono ancora disponibili online però eh poi dopo non ci forse non riusciremo a metterli da nessuna altra da nessuna parte eh come dire che garantisca una sopravvivenza e allora eh era venuta l'idea siamo partiti di qua e eh abbiamo cominciato a pensare che forse si sarebbe potuto in altri modi cioè attraverso eh dei contributi dei fondi universitari eh mettere insieme una collana che è esuli dagli articoli già pubblicati come in questo caso ma che eh segua un po' la linea che era stata di tradurre e quindi produrre dei volumi eh che verrebbero a quel punto pubblicati da eh da editori eh come si chiamano universitari da press dal dall'University Press di qualche genere e eh finanziati eh con fondi delle università e che eh possano un po' continuare la linea di tradurre eh almeno su alcuni aspetti uno è l'aspetto dei le eh delle biografie dei traduttori eh o dei dei traduttori eh che sono stati anche importanti mediatori eh culturali come spesso sono i traduttori questa è un'altra cosa che forse si può dire del volume di cui stiamo parlando e che molti di questi traduttori anche questo fanno cioè quando un traduttore eh arriva a a quando un traduttore è sufficientemente eh conosce bene non il proprio il mondo da cui traduce spesso riesce ad arrivare anche a eh fare il consulente delle case editrici ecco ce ne sono stati anche in passato come tu ben sai e eh l'idea è di poter produrre di di fare dei libri in cui un po' queste figure vengano eh vengano eh ricordate uno eh questo e poi ce ne saranno altri in futuro ma non sappiamo bene che ancora che cosa saranno si parla di un di un volume di ehm biografie o comunque di medaglioni di eh scrittori che sono italiani che sono stati anche traduttori eh i progetti sono sempre tanti da queste parti e da queste bande poi non so se le forze eh ci consentono perché siamo sempre in pochi a lavorare quindi non lo so se poi le forze ci consentiranno di fare tutto quello che vogliamo per la rivista non siamo per la rivista non siamo riusciti perché a un certo punto abbiamo dovuto chiuderla eh non non ce la facevamo più eravamo troppo vecchi e e ci si stanca e adesso vediamo con la nuova iniziativa dei quaderni di tradurre ma ci piace chiamarli quaderni di tradurre perché ci piace l'idea di eh una continuità in qualche modo ce la faremo grazie Paola invito a rimanere collegata perché adesso facciamo la tavola rotonda chiedo a Paola Maria Filippi Lumi sulla tempistica ecco eh grazie a Paola Mazzarelli io adesso chiedo se volete fare cinque minuti di pausa cinque minuti cinque e poi io inviterei eh qui al tavolo Anna Antonello Lorenzo Bonosi il professor Ciapla eh Margherita Carbonaro tutti qui allineati perché so che Michele ha preparato delle domande molto eh come dire eh importanti per tutti noi e quindi eh vorremmo che da queste domande emergessero poi anche delle linee per il futuro per i prossimi lavori e per i prossimi incontri che eh stiamo già programmando sempre nel nome di Claudio Groff per cui direi cinque minuti di sospensione e ci rivediamo qui da casa anche grazie chiedo a tutti di rimanere collegati. Ok ok allora iniziamo l'ultima parte di questa giornata dedicata appunto a una tavola rotonda che durerà circa per la quale ci prendiamo circa tre quarti d'ora e e a cui partecipano i membri della giuria eh da remoto e da presente eh i gli autori dei libri che sono stati presentati e invito anche eh Alice Gardoncini la premiata a intervenire se ha voglia e piacere di farlo. Eh in realtà quello che vorrei fare è riprendere alcune delle domande che sono emerse durante questo pomeriggio e provare a girarle a a ai presenti in modo molto libero nel senso che non chiedo a tutti di rispondere a tutte le domande io le metto lì e poi facciamo un giro e ciascuno risponde alla domanda che 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 eh che gli interessa se poi su un tema in particolare si costruisce un discorso tanto meglio però ci tenevo a riprendere alcuni degli spunti eh che sono emersi eh intanto quelli più eh fattuali eh che cosa pensate delle poche candidature eh che ci sono state al premio e dei molti esordienti ehm e del problema della revisione editoriale che è anche emerso. Questo ci porta a riflettere in generale sulla formula del premio Groff se sia da ripensare eh oppure no e se sì in che modo cosa si potrebbe fare eh per dargli più efficacia. E poi con Paola Filippi pensavamo a un tema questo non è emerso ma eh ci tenevamo a farlo emergere durante la discussione eh il tema che potrebbe essere quello del prossimo convegno, quello del prossimo anno, quello dello scorso anno è stato dedicato alla traduzione eh sommersa o inedita eh mentre riflettevamo sulla possibilità di dedicare quello del prossimo anno alle traduzioni magistrali. Ecco magistrale intendiamo una traduzione particolarmente riuscita e significativa per la cultura che la prodotta. Eh potrebbe essere un tema interessante anche in prospettiva di costruire quella storia della letteratura italiana che includa le traduzioni e quindi una sorta anche di canone delle traduzioni più rappresentative che sono state realizzate nel nostro paese. E poi c'è un altro tema che mi piacerebbe sottoporvi che è quello di come gli studi sulla traduzione come quelli che sono stati presentati oggi o anche operazioni come eh il libro curato da Paola Mazzarelli quindi le interviste ai traduttori possono essere d'aiuto in qualche modo di di supporto ai traduttori nel loro mestiere concreto. Cioè è possibile legare eh gli studi sui traduttori del passato, le interviste ai traduttori del presente con il mestiere concreto del tradurre. È importante ed è significativo per chi traduce oggi riconoscersi in una traduzione della traduzione in Italia, conoscerla questa tradizione e questa conoscenza, questa consapevolezza ha poi può avere degli effetti eh sul lavoro concreto del tradurre. Questo lo chiedo in particolare a chi traduce di professione tra noi ma anche appunto agli studiosi che magari operano in questa prospettiva. Ecco sono tante cose ma eh appunto cedo la parola a voi e vi lascio veramente la massima libertà di ehm spigolare tra questi spunti. Eh forse farei un giro di tavolo da destra a sinistra e eh e poi passerei alle due alle relatrici collegate da da remoto e e poi se c'è tempo facciamo un secondo giro. Grazie. Margherita Carbonaro. Ecco io forse eh a questo interverrei proprio sul problema. Forse una breve risposta a questa all'ultima domanda che tu hai formulato. Se le biografie dei traduttori, se il conoscere la storia di chi ci ha preceduto può aiutare in qualche modo il traduttore? Era questa la domanda no? Ma io direi non confesso che non ci ho mai pensato fino a questo momento però però sì cioè io penso proprio di sì ehm tanto io confesso di appartenere anch'io a a di essere anch'io parte di quei traduttori che diciamo non frequentano la teoria della traduzione eh è chiaro sì che abbiamo capito che sono due eh due strade diverse però eh sì con esempio mi ha molto interessato e anzi sicuramente leggerò il libro su Lavinia Mazzucchetti sulla quale io pur avendo insomma pur avendo eh lavorato in parte voglio dire ho anche ritradotto un libro che 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 Mazzucchetti aveva tradotto fra l'altro il lotto in Weimar e però sì anche perché questo comunque serve anche a a creare una maggiore consapevolezza del io 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 sono convinta che no appunto non credo che il traduttore sia un coautore però penso che la traduzione se praticata soprattutto su certi testi sia comunque e con e diciamo e con il giusto impegno la giusta ma la qualità la giusta revisione o la giusta sia comunque una forma di scrittura e quindi in questo senso sì cioè nella nella nel costruire nel cercare di costruire questa professione e e e quindi far capire anche a editori a istituzioni di quale tipo di formazione eh c'è bisogno proprio perché appunto un traduttore esordiente un traduttore alle prime armi arrivi a formarsi certo eh questa mi sembra una cosa è una cosa importante ehm non so se vado vado forse cedo la parola ma magari dico un'altra cosa breve brevemente sui temi che sono stati toccati la revisione innanzitutto invito eh Alice Gardoncini a ehm eh continuare a praticare la traduzione ma anche la revisione che è un buon esercizio di traduzione anche quando si ha la fortuna di rivedere buone traduzioni cosa che devo dire io nella mia corriera ho avuto è stata una fortuna inestimabile perché ho rivisto e devo dire c'era ben poco da rivedere ma ho ho lavorato eh su una traduzione per esempio all'epoca in cui lavoravo come redattrice ai ai meridiani eh Mondadori ho lavorato ho rivisto traduzioni di Enrico Ganni c'era poco da rivedere ovviamente dalle quali ho imparato molto ho imparato sicuramente e e e il il in quel caso il lavoro di revisione probabilmente è stato più utile a me e che che allo stesso Enrico e lo stesso è avvenuto anche con Luigi Reitani quindi insomma anche la revisione se si ha la fortuna di di trovarsi tra le mani una buona traduzione è anche un'occasione per chi rivede di studiare ehm di fare di fare io è stato un po' la scuola che io ho fatto perché all'epoca io appartengo alla generazione che non ha avuto a disposizione scuole di 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 traduzione ma che si è formata artigianalmente in bottega non voglio rubare tantissimo tempo un'ultima cosa che vorrei dire a proposito di questo lo problema della della mancanza oggi di di buone revisioni o di revisioni in anch'io ehm anch'io purtroppo molto spesso i miei testi vengono rivisti in maniera assolutamente superficiale o inadeguata o veramente quasi spesso anche quasi inesistente e io pur insomma pur avendo parecchi libri alle spalle ma continuo a desiderare il confronto con 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 altri con altri quindi non è solamente uno strumento non solo per il per il per il per l'esordiente una cosa così che vorrei far conoscere eh in in altri paesi come per esempio la Svizzera in parte anche ehm la Germania esiste questa forma questa genere forma di formazione che è il mentorato cioè promosso in genere da istituzioni cioè da istituzioni perché naturalmente la casa editrice non se lo potrebbe permettere ma si offre a un eserdiente o qualcuno che al sottivo un paio di traduzioni di lavorare a un a un libro affiancato da un traduttore esperto e credo che questa sia una cosa su cui forse si potrebbe riflettere perché non mi risulta che in Italia questo tipo di mentorato sia stato finora praticato chiudo qui grazie io stavo riflettendo sul fatto che forse sia per rispondere alla domanda sulla sull'utilità diciamo delle delle biografie dello studio della storia dei traduttori per i traduttori stessi che per l'altra questione che riguarda un numero scarso di di partecipanti a questo concorso sicuramente bisognerebbe partire dal presupposto che esistono due categorie di traduttore cioè il giovane emergente che forse spesso accetta la traduzione perché non so è tra vari concorsi universitari o comunque diciamo welfare pratica sta facendo un master di traduzione non lo so quindi inizia a tradurre e non ha forse neanche questa scarsa come dire non ha un'enorme ambizione anzi è forse intimorito dal dal dall'opera dal dal nome dell'autore che sta traducendo e non ha poi grande consapevolezza dell'importanza del lavoro che ha svolto e quindi magari non gli viene neanche in mente di pensare di partecipare a un premio cioè è molto diverso questo l'ottica secondo me la prospettiva con cui un esordiente fa una traduzione da quella del traduttore affermato che magari appunto anche tempo e voglia di approfondire degli aspetti sulla storia di di veri traduttori ecco secondo me io non so come sia stato pubblicizzato questo questo premio però secondo me il fatto che una persona che sia stata premiata una persona come alice che agli esordi ecco forse questo potrebbe spingere a premiare di più proprio quelli che sono gli esordi che hanno più bisogno di incoraggiamento e che forse in quel momento visto che c'è si diceva scarsità di traduttore dal tedesco hanno anche voglia poi di continuare su quella strada che non si diceva una strada molto difficile a una strada insomma i compensi se vogliamo dirlo fino ai tempi della mazzucchetti non erano il massimo forse non lo so neanche adesso io sono tradotto un sacco non lo so però insomma sarebbe una ricompensa sia come dire spirituale che in moneta che forse potrebbe far bene a tutto l'ambiente ecco sono un'idea grazie grazie a tutti grazie a tutti che ho ho aprenduto, o che mi è stato chiarito ancora più di oggi, che sono diversi tipi di scrittori di scrittori, come la scelta di scelta di scelta di scelta, e che è stato molto più grande, come abbiamo con la canonizzazione, anche in la scelta della scelta e della scelta di scelta di scelta, immer wieder wieder beschreiben also wir haben eine ganze reihe von übersetzern wie die rilke wie george die wir sehr hoch schätzen aber dann nebenbei gibt es dann eben solche leute wie hans leifelm die sich theoretisch nie mit übersetzungen beschäftigt haben die auch das italienische nur gelernt haben aus dem praktischen gebrauch heraus wir hatten uns darüber unterhalten dass hans leifelm als kind das italienische gelernt hat weil es einen priester gab in seinem ort der eine zeitschrift oder eine zeitung herausgab für italienische gastarbeiter da waren sprachkurse drin und das waren die ersten schritte mit denen hans leifelm sich an das italienische herangewagt hat später hat er eine privat lehrerin engagiert die ein wenig noch an kolloquialem italienisch beibrachte und und auch fehler korrigierte aber er hat weder jemals romanistik studiert noch irgendwie theoretisch sein über seine übersetzer arbeit reflektiert das finde ich finde ich hochinteressant das ist mir heute noch mal noch mal deutlich geworden wie groß der unterschied ist zwischen einem solchen übersetzer und leuten die von einem hohen akademischen niveau sich solchen texten nähern die die von literatur theorie einfach etwas verstehen und natürlich dann noch mal ihren den prozess des übersetzens vollkommen anders reflektieren als ein hans leifelm gemacht das gemacht hat die zweite sache die mir klar geworden ist es gibt sicherlich eine ganze reihe von übersetzern die wie hans leifelm die aus der aus der bloßen begeisterung für die italienische literatur dann texte ins deutsche übersetzt haben er hatte das glück dass er direkt auch ein forum fand für seine texte das ist heute nicht mehr so unbedingt selbstverständlich übersetzungen unterzubringen ist ähnlich schwer wie lyrik überhaupt unterzubringen verlage finden sich nicht unbedingt immer und es gibt eine ganze reihe wenn man im deutschen literatur archiv in marbach etwa mal mal schaut eine ganze reihe von übersetzungen aus dem italienischen ins deutsche von namhaften autoren die niemals irgendwie an einen verlag gekommen sind und gedruckt worden sind also diese diese zahl ist vielleicht noch größer als das was im endeffekt dann gedruckt auf dem markt erschien bei leifelm war das erstaunliche dass die begeisterung von italienischer seite für seine übersetzungen aus dem italienischen so groß war dass sie ihn immerhin zweimal zu anstellungen in italien geführt hat als lektor für deutsche sprache und literatur in palermo und padua die wertschätzung die leifelm genoss an diesen universitäten begründete sich weniger aus seinen eigenen dichtungen und aus dem was er an akademischen abschlüssen einschließlich promotion gemacht hat als aus dem was er konkret geleistet hat für die wahrung für die schon von gedichten und dichtern die vielleicht verloren gegangen sind und für die vermittlung die er geleistet hat zwischen italien und deutschland in einer zeit wo man eigentlich nur über eine politische achse sprach aber nicht über die gemeinsamen kulturellen grundlagen va bene allora proviamo a riassumere rapidamente quanto appena detto allora diceva il collega che ci sono tanti tipi di traduttori più di quanti di solito si pensi e che anche il campo letterario è molto più grande di quello canonico ecco quindi ci sono tanti personaggi famosi però altri meno famosi come il caso del nostro hans lightfeld ecco un traduttore che non ha goduto di una preparazione teorica ma si è avvicinato alla traduzione in maniera molto pratica ha mosso i primi passi in italiano in maniera spontanea è stato poi come dire perfezionato grazie ad un'istruttrice no in italiano a un prete mi sembra poi un'istruttrice e cosa secondo me interessante che ecco quindi guardando la il caso di di light lightfeld c'è una grande differenza tra i traduttori accademici con preparazione teorica e quelli invece che lo fanno per passione come è stato il caso per light felt ecco il secondo punto in cui volevo accennare è che lightfeld ha appunto tradotto per passione e però è riuscito nell'impresa di trovare un forum cioè un uditorio in italia e nonostante insomma fosse difficile per esempio la in germania la ricezione anche di tante traduzioni tedesche per esempio diceva il collega che all'archivio amava all'archivio letterario di mava ci sono tantissime traduzioni all'italiano che sono lì nel bunker senza aver mai visto la luce della pubblicazione per modo di dire ecco e concludendo l'impegno la passione di lightfeld per la letteratura la lingua italiana gli sono comunque valsi due incarichi in italia no uno a palermo in cui però si è badato a quanto lui avesse compiuto proprio fattivamente nel campo della nel campo della mediazione linguistica e in tempi peraltro politicamente piuttosto difficili quando insomma il focus della insomma l'attenzione delle persone era altrove ti chiedo di cambiare le vesti da quelle di interprete a quelle di studioso e se vuoi di commentare domande introdotte inizialmente sì michele grazie in breve considerazione su un problema che emesso oggi ripetutamente lo diceva paola mazzarelli e l'abbiamo detto in diversi qui oggi cioè il fatto che manchino dei revisori come dire è brutto dirlo ma lo dico lo stesso culturalmente all'altezza di di fare questo lavoro e anche quindi di trovarsi poi dall'altra parte in presenza di di intraduttori in qualche modo impreparati la mia opinione è che c'è proprio un problema filosofico non so come dire nella parola giusta però la tecnologia anche ci ha portato a questo perché da un lato ci aiuta nella traduzione no però dall'altro la società il mondo percepisce il lavoro del traduttore se possibile non lo percepisce ancora meno del passato perché noi oggi con un clic sullo sullo smartphone potremmo tradurre una cosa in maniera non malaccio diciamo però la conseguenza è che la gente e perfino gli editori non si ricordano più cosa significhi essere un traduttore bravo o fare una traduzione nel campo della poesia come molti dei signori di cui abbiamo parlato oggi hanno fatto quindi se qui in trentino o altrove un elettricista prende non so 70 euro all'ora è un traduttore e 12 euro a cartella no un prezzo medio in italia altrove sono anche molto meno allora ecco c'è qualcosa che non va e un aspetto secondo me è appunto la tecnologia e questi traduttori automatici ma in genere è internet ecco grazie a davigliani dicevo a proposito dei pochi reggiori dei pochi traduttori dal tedesco e quindi dei pochi libri che si candidano io sono anche giurata del premio babel che era che è rivolto a tutte le lingue però io come giurata con competenza del tedesco ho avuto poco da fare per la mia lingua ho lavorato sulle altre lingue perché il tedesco è arrivato sempre molto poco e quel poco ha piuttosto debole lì lo sbarramento a 40 anni cosa vuol dire vuol dire che gli editori non affidano i giovani il delle traduzioni dal tedesco perché perché avendo pochi revisori preferiscono qualcuno che dia più garanzie anche se non sono grandi garanzie assolute come dice un mio editore ma intanto lei è brava ma questo non vuol dire niente io ho bisogno di un revisore non è che ho bisogno di confrontarmi questo non viene compreso generalmente oggi mentre 40 anni fa 30 anni fa più o meno tutti avevano un revisore poi gli editori poi ci poteva essere il revisore competente il revisore che c'era meglio non averlo però in ogni caso il revisore era era fondamentale era come un editing a un libro la stessa cosa si faceva l'editing alla traduzione ma con un competente che la lingua d'origine la conosceva ecco la lingua d'origine la conosceva cosa vuol dire che il tedesco è sempre meno studiato o se viene studiato viene studiato per il tradurre tecnico io sono stata rimine alle giornate della traduzione ho tenuto un seminario tutte le persone vota mio seminario che era di traduzione letteraria erano tendenzialmente traduttori tecnici e dicevano però mi piace la letteratura vorrei poi vorrei anch'io darmi alla traduzione letteraria ma è chiaro che ho studiato tedesco perché trovo un impiego nelle aziende che lavorano con la germania con i paesi di lingua tedesca allora il tedesco letterario probabilmente viene studiato poco viene studiato poco perché nelle scuole non si parla delle letterature straniere che non si parla certo di letteratura tedesca come ho scoperto io la letteratura tedesca grazie a un insegnante di ginnasio che ha deciso una volta di fare una specie di seminario sulle tre delle letterature straniere in particolare per un mese o due ha parlato di letteratura tedesca ci ha fatto leggere thomas man e cappella e lì io sono entrata in quel mondo però è stato un caso non si fa normalmente mi dicono colleghi amici segnano l'università che i ragazzi che magari vogliono fare tedesco sono ragazzi che non hanno mai letto niente di tedesco arrivano completamente di giugno e uno si domanda ma come fai arrivare di giugno e dire sì voglio fare qualcosa di tedesco se non hai mai letto nulla ecco quindi ci vuole veramente un raccordo tra l'editoria la scuola l'università la scuola le scuole superiori per promuovere anche la cultura degli altri paesi anche le letterature dei paesi europei e europei e per quanto ci riguarda in questo momento la letteratura tedesca io avevo proposto e quindi anche un'istituzione come il Giotensi in Italia avevo proposto di fare qualcosa per avvicinare i ragazzi dei licei turinesi delle scuole superiori la letteratura tedesca portando magari qualcuno che andasse a raccontare un libro facendo leggere loro un libro raccordandosi con gli insegnanti in italiano però il progetto è fallito ecco quindi questo fatto di cui si parlava di far entrare la lingua della traduzione nella storia letteraria italiana mi sembra molto interessante e questo potrebbe portare davvero anche a far leggere qualche libro di letteratura straniera ai ragazzi che fanno le scuole superiori di tedesco si legge il Werther perché c'è Foscolo poi finisce tutto lì ecco questo è il problema però bisogna cominciare presto cioè innamorarsi di una letteratura di un paese, di un mondo, di una lingua se cominci presto vai avanti e se no è molto più difficile, è molto più raro ed è per questo che abbiamo pochi giovani che hanno queste competenze sia per la traduzione che per la revisione ma finché non ci sarà un numero consistente penso che sia sempre più difficile questo è il problema poi non so come potremmo risolverlo e per quanto riguarda il fatto degli esordienti sì gli esordienti dovrebbero appunto avere è bella l'idea del mentorato dovrebbero davvero avere qualcuno che li accompagna ma sono questioni di soldi, di risorse, di fondi eccetera eccetera e nessuno pensa come dicevate prima voi che gran parte della letteratura che noi abbiamo letto che noi leggiamo la leggiamo in traduzione per cui impariamo a parlare attraverso la lingua dei traduttori per cui se i traduttori traduccono sempre peggio parleremo sempre peggio e quindi anche la canegna della la russa magari potrebbe preoccuparsi visto che si preoccupa della lingua italiana anche della lingua delle traduzioni perché è nella lingua delle traduzioni che noi leggiamo romanzi e letterature in generale quindi faccio un appello a varie istituzioni ma non so forse cadrà nel vuoto Grazie Ada Paola Mazzarelli Sì Ada mi ha tolto le parole di bocca quasi però vorrei vi butto lì una mia esperienza personale io è vero che insegno nella scuola di traduzione editoriale si chiama così editorino dal 2007 ma ho un'esperienza precedente perché c'era prima un'altra scuola quindi sono più di vent'anni che insegno traduzione a studenti dai 25 anni in su che abbiano una laurea oggi si dice magistrale allora era il vecchio ordinamento se fino a una decina di anni fa da un nostro anno di lavoro della nostra scuola uscivano tre quattro in certi anni anche cinque persone che io potevo mandare a un editore a fargli fare una prova di traduzione oggi non esce una mi ritengo fortunata quando posso avviare una giovane o un giovane a mandare a un editore a fargli fare una prova di traduzione io mando solo persone che sono sicura che passeranno la prova perché altrimenti non serve a niente e la volta dopo l'editore non mi consente di far fare una prova perché questo benché si faccia il possibile all'interno della scuola e in molti altri posti naturalmente c'è qualche cosa alle spalle che viene sta venendo a mancare vi dico anche questo degli studenti che si presentano oggi che hanno una laurea in lingua e traduzione da tutte qualsiasi università italiana la maggior parte di questi studenti di laurea in traduzione non entrano nella nostra scuola per carenza di conoscenza della lingua italiana cioè qua c'è un problema che è molto a monte di quello di cui stiamo parlando noi è un problema che va grave che io veramente non lo so dove sia la soluzione ma certamente oggi dal liceo, dalla scuola media, dal liceo e poi dall'università non escono più studenti che sappiano scrivere in italiano scrivere in forma corretta un italiano, non dico letterario aulico ma un italiano scritto normale questo è secondo me il problema vero che poi si aggancia al problema dei revisori come mai non ci sono i revisori? se i revisori sono giovani e sono anche loro incapaci di vedere le finezze della letteratura ma anche i traduttori di tedesco ha maggior ragione perché siccome il tedesco è una lingua più difficile viene studiata meno, oggi piace fare lo spagnolo, guardate voi non avete idea della quantità di domande che abbiamo noi per spagnolo e inglese, le due lingue, quelle lì sono la combinazione principale tedesco pochissimi, francese qualcuno, queste sono le nostre lingue poi non possiamo fare russo purtroppo perché questo? cioè dov'è il problema? il problema è che non si studia, non si scrive, non si scrive più nelle scuole non si scrive e quindi si arriva all'università, i docenti universitari qua presenti sanno come vengono scritte le tesi in italiano oggi non si scrive al liceo, non si scrive all'università, la tesi non viene, non viene e poi arrivano da noi ragazzi che non sanno scrivere, noi in un anno non gli possiamo insegnare l'italiano, non gli possiamo insegnare a scrivere e di conseguenza non possiamo mandarli da un editore il quadro è secondo me molto grave, molto grave se parliamo di traduttori e sono d'accordo con Ada quando pensiamo, vado all'ultima domanda di Michele i traduttori non conoscono forse la vita dei traduttori precedenti ma conoscono la loro opera non solo i traduttori, tutti i lettori perché noi leggiamo l'italiano l'italiano delle traduzioni costruisce l'italiano, ha costruito il mio italiano ha costruito il vostro italiano insieme alla letteratura italiana contemporanea o non contemporanea e quello di oggi costruirà l'italiano di domani nessuno di noi che traduce può prescindere dai traduttori del passato perché abbiamo letto in traduzione tutte le lingue e tutte le letterature che non potevamo leggere nella lingua originale forse non conoscevamo la vita dei traduttori che poi sembra interessante naturalmente ma quello lo conosciamo e il problema oggi qual è? Il problema è che questa povertà che vediamo nelle traduzioni dei giovani è la povertà che sarà nell'italiano letterario di domani perché a un certo punto i traduttori della mia generazione e poi delle generazioni successive andranno a scomparire e resteranno soltanto questi giovani che io a 95-30 anni non posso mandare a un editore nemmeno a un editore che traduca letteratura corrente faccio ancora un'ultima osservazione tutta la traduzione editoriale è una forma di scrittura non dobbiamo pensare soltanto ai grandi autori i giovani leggono oggi la fantasy i giovani della mia generazione leggevano magari sì Thomas Mann sicuramente ma leggevano la fantascienza oggi va di moda la fantasy un traduttore deve saper scrivere in un buon italiano e saper lavorare bene sulla lingua italiana non solo se traduce i grandi autori naturalmente se traduce i grandi autori sì ma anche la letteratura per ragazzi anche la saggistica divulgativa anche tutto quello che si trova sui banchi delle librerie perché è quello che viene letto dai lettori dal lettore comune è quello su cui si formano i ragazzi di oggi fine del mio intervento ricordo, posso parlare? certo ricordo che quando insegnavo perché anche io ero collega di Claudio alla scuola di Paola e che dicevo ai ragazzi ragazzi qui però c'è l'italiano che valla facciamo un po' di riassunti che così imparate a trovare le cose essenziali in modo da capire quando state leggendo quali sono i punti importanti sì sì bellissimo eccetera ma forse dieci anni fa era diverso può darsi come dice Paola la situazione è ancora peggiorata è anche vero che in quegli anni due o tre tre o quattro hanno dal tedesco lavorato stanno lavorando per Inaudi per Mondatori per Sellerio insomma per Adelpi e quindi qualcuno è venuto fuori però però vabbè forse sono sempre stati pochi sicuramente c'era una conoscenza un tempo della lingua italiana media che aveva fatto una scuola un liceo una scuola superiore riusciva si scrive poco e le cazze si scrive poco perché si scrive si scrive male si scrive veloce si scrive la mail si scrive ancora peggio si scrive Whatsapp e quindi si tende a non sviscerare il pensiero come si faceva dobbiamo scrivere a mano o comunque insomma una macchina da scrivere casomai adesso è un po' di lesso bisognerebbe cercare di appunto però è la scuola superiore io non non posso metterci le mani e quindi spero vivamente nei colleghi negli insegnanti che riescano veramente a a riportare l'importanza della conoscenza dell'italiano che serve in tutte le materie ma c'è a medicina che mi raccontavano che non riuscivano che hanno dovuto fare dei corsi d'italiano perché tanti a medicina è importante saper scrivere qualcosa in italiano ecco quindi riuscire a far capire questo forse non è non è così semplice speriamo che ci sia un un giro di boa e che le cose poi a un certo punto da quel punto di vista migliori non posso dire altro grazie Ada non so se Alice vuole intervenire Alice Gardoncini ti va di dire qualcosa no ok no volevo dire funziona mi sentite sì no sicuramente più vicino sì ah ecco così semplice insomma il fatto che ci sia un una 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 incapacità di scrivere insomma credo che lo insomma come livello medio che livello medio sia abbastanza basso credo che sia insomma di fronte a chiunque ha insomma ha avuto una classe di qualche tipo in cui si è dovuto scrivere qualcosa non so se questo centri poi così tanto con il discorso che si stava facendo nel senso che forse questo è sempre più o meno stato così non credo che i giovani d'oggi siano peggio dei giovani di ieri per qualche motivo appunto intrinseco legato ai giovani in una grande massa di persone c'è qualcuno che sa scrivere qualcuno che si è insomma che sa scrivere in modo meno bene e qualcuno che non sa scrivere insomma probabilmente ci sono anche appunto secondo me bisogna un po' complicare il quadro perché per evitare a mio avviso di fare un discorso di semplice lamentela del fatto che insomma che oggi i tempi sono peggiorati eccetera probabilmente insomma è la mia opinione di chi si sente forse ancora giovane quindi presa in causa però credo che ci siano anche altri fattori appunto il mercato le dinamiche interne al sistema editoriale la filiera che funziona in un certo modo insomma secondo me ci sono tanti fattori che forse con la appunto con il discorso che si sta facendo si rischia di perdere un po' per strada perché secondo me c'è sempre stata una grande differenza nel insomma nella nel panorama generale solo questo allora io fondamentalmente concordo con Alice Gardoncini stiamo in questo momento parlando di eccellisi traduttori del passato dimentichiamo il fatto che in passato si sono state esiste un passato di orribili traduzioni e tutti noi che a volte ci troviamo a confrontare e guardare come è stato tradotto un libro e magari perché appunto si presenta la necessità di una nuova traduzione insomma le brutte traduzioni ci sono sempre state una certa mancanza di professionalità c'è anche sempre stata forse anche addirittura io non sono una storica della traduzione ma la figura in passato molto spesso il traduttore era magari la moglie di qualcuno che che non aveva niente da fare così insomma quindi non vedrei veramente tutto così nero devo dire anche che io ho pochissima esperienza di di scuola di scuola di 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 insomma però voglio credere anch'io che sicuramente c'è un'abitudine diversa a scrivere e si insomma sicuramente e a leggere sicuramente e nella mia generazione leggeva di più perché faceva parte delle cose che si facevano mentre per molti no però il punto è d'accordo sono pochissimi quelli che leggono sono pochissimi quelli che scrivono sono pochissimi quelli che si interessano la letteratura però ci sono dobbiamo trovare il modo di offrire una buona formazione a questi pochi che hanno voglia di impegnarsi in questa cosa questo mi sembra il punto fondamentale perché appunto la situazione questa non la cambiamo l'editoria non la cambiamo nemmeno e quindi dobbiamo trovare delle altre strategie degli altri modi per offrire un sostegno a quelli che veramente vogliono farlo un'altra cosa sono fiorite i corsi di traduzione dappertutto corsi master di tutto quante di queste persone che quindi diciamo iniziano in qualche modo uno direbbe beh questi sono dei futuri traduttori ma quanti di questi veramente si sono interessati alla traduzione o semplicemente la scelgono perché sta in un possibile curriculum scolastico che magari non sanno non sanno dove andare cioè bisogna pescare i veramente interessati quelli che si accostano alla traduzione veramente perché perché e poi naturalmente all'inizio non lo sanno fare cioè nessuno lo sa fare all'inizio come si fa a sapere come si traduce all'inizio senza qualunque traduttore esperto sa che le sue prime traduzioni se fossero state pubblicate così come erano sarebbero state brutterelle insomma però trovare il modo di valorizzare quello che c'è e che io penso che ci sia voglio credere che ci sia ma chi lo può fare l'editore perché è l'unico che mette insieme un libro da tradurre la persona che lo traduce è quello che lo rivede ma l'editore dove trova le risorse economiche per farlo quindi ci sono dei paesi come ad esempio la Germania io vedo che dà molti contributi per la traduzione la Svizzera dà dei contributi la Svizzera dà per i suoi libri per i suoi libri ma la Germania dà contributi per i traduttori e quindi forse con questi aiuti anche un editore potrebbe mettere più denaro per sostenere con dei mentori come si diceva prima o in ogni caso sono un revisore di valore i nuovi le nuove leve che se ne erano le nuove leve di traduttori ma anche di revisori perché quando facevo io il revisore io per un certo numero di anni ho rivisto traduzioni perché pur essendo pagata di meno la traduzione la revisione rispetto a una traduzione però chiaramente si fa più in fredda quindi alla fine mi permetteva io guadagnavo di più facendo una revisione e con questo mi permettevo magari di lavorare una traduzione oggi non penso che sia così penso che cioè la traduzione la revisione è pagata talmente male che nessuno potrebbe dire beh insomma mi arrangio facendo qualche revisione e poi traduco che mi piace di più posso no mi veniva in mente una una corrispondenza tra Luigi Rusca che era condiratore della Mondadori e Alberto Mondadori alla fine della della seconda guerra mondiale o comunque inizio degli anni 40 in cui Rusca si lamentava con Alberto Mondadori che c'era penuria di traduttori bravi dal dal tedesco diceva che ne aveva parlato con Buonaventura Tecchi con Giuseppe Gabetti che era un disastro e nella stessa lettera poi sparlavano alla grande di Lavinia Mazzucchetti delle sue traduzioni pessime e fra l'altro la stessa casa editrice appunto le aveva appena dato il compito di curare l'opera o miglia di man e di tradurlo quindi secondo me mi allaccio a quello che è stato detto da Maria Rita forse la questione di fondo è capire se la traduzione si può insegnare oppure no perché mi sembra di capire già ai miei tempi insomma ormai una ventina di anni fa cominciavano a spuntare i primi master in traduzione ma quindi e c'era molta gente che partecipava a questi master annuali o biennali e allora la questione però è capire che senso hanno e se appunto la traduzione deve essere una cosa innata come era per Lavinia Mazzucchetti che appunto aveva questa come dire illuminazione o incenserante ancora di più oppure se no perché altrimenti forse questi insegnamenti non hanno molto senso poi si diceva degli studenti che non leggono letteratura tedesca ma noi sappiamo bene che si scrivono a lingua lettere senza leggere per nulla quindi il problema è ancora più complesso se posso piano piano arrivare alle conclusioni perché siamo in chiusura volevo rilasciarmi a quello che diceva Margherita per trovare il buono e quello che un premio come questo può fare in questo panorama perché effettivamente se differenziamo il quadro ci rendiamo conto che ci sono ancora degli editori che puntano sulla qualità per i quali è fondamentale fare una buona revisione l'editore che abbiamo premiato nella scorsa edizione Marco Federici Solari dell'Orma lavora seriamente alle revisioni penso le faccia lui stesso per lo più o comunque le fa fare le persone competenti e le traduzioni dell'Orma sono tendenzialmente di buon livello ci sono altri editori che fanno questo Adel Fiera ed è ancora forse la punta in Italia per la qualità delle traduzioni e in Auri lo è stato fino a qualche tempo fa adesso ce ne sono di molto buone ma anche di meno buone e così mondadori eccetera si può un po' provare a disegnare questo quadro e magari non dico di dare un premio però in realtà due anni fa abbiamo dato il premio a una traduttrice ma anche a un editore e quindi in qualche modo non dico premiarli con il premio Groff però premiare segnalare gli editori per cui conta la pratica della traduzione buona ben rivista assegnata a persone competenti o comunque che crescono poi in casa editrice di traduzione in traduzione ecco questo potrebbe essere fatto anche da una rivista che si occupi di questo intradurre se ne era discusso molto sul valutare le traduzioni e quindi anche gli editori però penso che queste buone pratiche vadano incoraggiate perché potrebbero indurre altri editori a investire perché poi si tratta di scostamenti di bilancio ci sono dei soldi che togli da una voce e li metti su un'altra magari fai un libro in meno e paghi una revisione in più se però quella ti porta poi a un rientro sul piano almeno simbolico se non su quello economico e sappiamo che gli editori devono giocare su entrambi i tavoli perché solo su quello economico dopo un po' si finisce per fare i fabbri fratelli fabbri della situazione potrebbe essere appunto incoraggiarli potrebbe essere una buona idea così come appunto incoraggiare con varie strategie i traduttori emergenti a questo punto forse inviterei Paola Maria Filippi a raggiungerci per chiudere la giornata e parlare di quanto seguirà nei prossimi mesi e anni ti cedo il posto vieni così grazie intanto ringrazio veramente tutti tutti che siete qua ringrazio voi che ci avete seguito da remoto con grandissima pazienza e partecipazione ringrazio il pubblico che ha resistito fino adesso il futuro dovrebbe essere il convegno dell'anno prossimo mi sembra che quest'idea delle traduzioni magistrali possa come dire farci convergere tutti su un argomento di grande interesse cioè che cos'è una traduzione magistrale perché sopravvive che cosa può insegnare chi l'ha realizzata e che cosa ci può insegnare chi l'ha realizzata spererei di arrivare all'anno prossimo con il volume sulla traduzione sommersa quindi recuperare tutto quello che abbiamo fatto l'anno passato e abbiamo tutto il tempo per ripensare la formula del premio se a questo punto invece che lasciare la libera iniziativa dei concorrenti l'inviare ad esempio le loro traduzioni essere noi come giuria a scegliere ad andare ad individuare dei modelli virtuosi che possono essere che possono coniugare la buona traduzione con la buona revisione con la buona promozione con la scelta interessante dei testi perché non è detto che debba essere l'ennesimo Goethe o l'ennesimo Thomas Mann può essere veramente anche un nome completamente innovativo anche molto come dire di nicchia che però rivela nel traduttore e nella casa editrice che lo sponsorizza che lo promuove con un tendimento come dire veramente di promozione della letteratura tedesca in Italia per il resto non ho certamente nulla da aggiungere a quanto avete detto in questo quadro piuttosto negativo e piuttosto disastroso una cosa evidentemente pensando a Errante ma pensando anche alla Mazzucchetti eccetera che nelle loro testimonianze ricorre sempre molto forte il ricordo degli studi liceali fatti cioè il germe del lavoro traduttivo che hanno fatto poi successivamente è molto prima è molto prima addirittura negli studi appunto del ginnasio quindi a questo punto usciti dalle elementari c'è questa grande passione che nasce perché qualche professore ha letto dei brani per esempio di letteratura tedesca ecco ci sono delle testimonianze bellissime sono stati sufficienti dei brani letti per infiammare e approfondire ricche e poi una grande pratica di traduzione lì si apre naturalmente un enorme enorme come dire argomento di discussione è vero non si traduceva dal tedesco non si traduceva dalle lingue moderne perché oltretutto si finiva di studiarle in quinta ginnasio non dimentichiamo che i programmi non portavano avanti le lingue moderne però si traduceva indefessamente dal greco e dal latino Vincenzo Errante è vero Romagnoli ho ricordato ma il suo ricordo fino alla fine è sempre stato il suo professore al liceo di Roma Staderini al quale dedica traduzioni su traduzioni dice quello è stato il mio maestro quindi da quello ho imparato credo soprattutto la cura della lingua italiana ecco perché nessuno parla di tecniche eccetera che ci sono naturalmente ma la cura della lingua credo che forse possa riassumere un po' quello che abbiamo detto ecco questa cura attenta io ringrazio veramente tutti a questo punto arrivederci all'anno prossimo grazie Ada grazie Paola grazie a tutti arrivederci